ok gentili colleghi buongiorno buon pomeriggio prendete posto grazie benvenuti a Salerno all'ottavo congresso nazionale del gruppo campano ORL presieduto dal dottor Sabato Leo che quest'anno per la prima volta si svolge in partnership con il congresso nazionale dell'associazione ospedaliera italiana centro meridionale Otorino Laringoiatrica presieduta dal dottor Franco Ionna mi presento brevemente Marisa Rondinelli lavoro all'ospedale di Salerno la prima clinica Otorino presieduta dal professor Salsano al di là dei crediti formativi che saranno conferiti dal congresso stesso in svolgimento da oggi fino a venerdì ci saranno anche dei crediti aggiuntivi che verranno conferiti da corsi monotematici che si terranno nella mattinata di sabato in particolare ci sarà un corso per logopedisti sui disturbi dell'affluenza verbale un corso sull'otorino laringoiatria e il territorio un corso sulle urgenze in ORL pediatrica un altro sui percorsi otoneurogeriatrici e infine un corso sui dispositivi protesici la innovazione tecnologica in audiologia e audioprotesi ognuno di questi corsi dà 5 crediti formativi il congresso è patrocinato dalla regione Campania, dal comune, dall'ASL Salerno dall'ordine dei medici di Salerno e da tutte le principali sigle sindacali mediche dall'università e dalla cooperativa Concordia e Concordia Magna Ress i responsabili scientifici di questo attesissimo evento sono il dottor Franco Ionna dell'Istituto dei Tumori Fondazione Pascale di Napoli che io invito a salire sul palco professore benvenuto il dottor Sabato Leo specialista del territorio e guida strategica sia umana che professionale degli specialisti ORL Campani prego la facoltà è composta da circa 210 specialisti il presidente onorario è il professor Enrico De Campora che invito a salire sul palco prego professore nell'attesa che questo importante evento scientifico potesse finalmente realizzarsi dopo tutte le problematiche che si sono verificate a causa della pandemia diciamo così non siamo stati con le mani in mano nel senso che si sono svolti una serie di incontri online oltre 45 ore in toto di webinar con oltre 2000 partecipanti assoluti aspettando Salerno per me è veramente un onore partecipare a questo importante e attesissimo evento scientifico hanno preso parte numerosissimi sponsor che vorrei ringraziare non so se abbiamo modo magari di farli vedere anche dopo quali sono questi sponsor anche perché grazie a loro è stato possibile realizzare questo evento così importante quest'anno il congresso si intitola dal sintomo alla terapia passando per il PDTA come mai questo titolo a questo congresso? non è un caso in quanto in questo modo si è voluta particolarmente evidenziare la importanza di percorsi diagnostico terapeutici assistenziali multidisciplinari e quindi in questo senso l'importanza dell'interazione tra una branca e un'altra per giungere dal sintomo alla diagnosi e quindi alla terapia per questa ragione quindi il congresso è stato accreditato per medici chirurghi specialisti in molteplici branche e quindi non soltanto per l'otorino laringoiatria consta di numerose tavole rotonde e numerosissime relazioni saranno oltre 200 i relatori e i moderatori e ora vorrei scambiare due chiacchiere con gli artefici di questo bellissimo evento in particolare vorrei partire dal dottor Sabato Leo allora dottor Leo intanto come mai quest'anno questo congresso si svolge in partnership con la OICO allora il gruppo campano e la OICO sono i due principali gruppi di associati del centro meridionale e quindi numerosi iscritti della OICO sono iscritti anche al gruppo campano e altrettanto quelli del gruppo campano ovviamente sono iscritti con la OICO quindi tra noi c'è già una collaborazione naturale che va da parecchi anni e quest'anno proprio perché avevamo questi associati comuni abbiamo cercato di fare aggiornamento insieme e questo ci ha portato poi a decidere per un congresso congiunto e quindi questo congresso di quest'anno avrà delle caratteristiche differenti che cosa dobbiamo aspettarci da questo congresso? a me sarebbe piaciuto dire ricominciamo da dove eravamo partiti purtroppo però ancora le mascherine, il distanziamento e il green pass ovviamente ancora non ce lo permettono di dire e quindi dobbiamo stare ancora attenti però comunque si tratta quindi di un congresso diverso da quelli a cui eravamo abituati in questi anni siamo stati a contatto con un nemico che non conoscevamo che ci ha fatto cambiare modo di vivere, di lavorare di avere il rapporto con gli altri e questo ovviamente le ripercussioni sono ovvie anche a carico di tutto l'aggiornamento e quindi dobbiamo trovare un nuovo modo di fare aggiornamento un nuovo modo di incontrarci un nuovo modo di stare insieme adesso lo stiamo sperimentando per la prima volta ovviamente con tutte le accortenze del caso e quindi perché ci mancavano soprattutto noi lo vogliamo fare in presenza sempre questo è il nostro problema perché ci mancavano i nostri incontri i quali incontri a volte sono anche più efficaci delle varie relazioni che presentano i vari relatori e quindi stare insieme si sta bene questo è quello che noi ci auguriamo di fare anche successivamente nei prossimi anni voi pensavate che io lo avessi dimenticato ma ve lo voglio presentare in tutto il suo splendore dottor Di Maria si accomodi dottor Domenico Di Maria primario della unità operativa di Otorino la ringoiatria dell'ospedale Rummo di Benevento anima del congresso insieme naturalmente al dottor Sabatoleo elemento trainante di tutti gli eventi scientifici di cui abbiamo parlato poc'anzi anzi a proposito proprio al dottor Di Maria chiedo che cosa ha fatto il gruppo Campano RL in questo periodo di emergenza epidemiologica buonasera a tutti grazie Marisa per la tua affettosa presentazione e ha fatto proprio questo ha guardato il bicchiere mezzo pieno perché questo virus come ha detto giustamente il presidente ci ha costretto a distanziarci a venire meno a quella che era il core del nostro congresso e stare insieme allora perché non sfruttare quest'anno inguriamo costretti a casa paradossalmente per incontrarci e quindi è partito questo progetto congiunto tra Oico e gruppo Campano nel fare i webinar del mercoledì che è iniziato non dico quasi per gioco ma così giusto da una mia idea durante le vacanze natalizie del 2021 abbiamo coinvolto tutti abbiamo rispettato lo spirito di coinvolgimento di tutti abbiamo fatto emergere professionalità eccellenti del centro-sud e guarda è diventato un appuntamento così sentito che dato che non era tutti i mercoledì quando non c'era il webinar c'era qualcuno che chiamava e diceva ma io sono pronto quant'è che andiamo online e io ho dovuto dire ma guarda che stasera il webinar non c'è abbiamo vinto la sfida con il calcio con le partite di coppa abbiamo tenuto e come hai anticipato tu abbiamo fatto 45 ore e 15 minuti di lezione e abbiamo avuto 2040 utenti assoluti quindi pensiamo che potremmo farlo sicuramente l'anno prossimo e il merito va a tutti i relatori eccellenti che hanno partecipato in quest'anno in qualche modo potremmo dire che c'è una sorta di strascico di questo evento congressuale che poi si protrae per tutto l'anno allora dottore Ionna ci vuole parlare della sua esperienza di presidente della OICO come è stata come esperienza Buonasera, benvenuti posso avere le mie slide così mi aiutano un po' la mia esperienza è stata segnata dalla pandemia ma ci ha portato a nuove esperienze come diceva il dottore Di Maria in particolar modo abbiamo sentito i temi e i contenuti del congresso ma l'idea portante durante tutto il tempo è stata quella di avere il paziente al centro e questo ci ha portato a scegliere il tema di questi quattro giorni che sono il PDTA il mio compito stasera qui è fondamentalmente però prendervi del tempo per ringraziare chi mi ha fatto vivere questa esperienza dal punto di vista scientifico dal punto di vista della maturazione professionale ma soprattutto dal punto di vista di un'esperienza emotiva, umana molto coinvolgente voglio ringraziare chi veramente ha creato una squadra una squadra fortissima di professionisti di eccellenze che altrimenti sarebbero rimaste diciamo non in secondo piano ma avrebbero avuto una difficoltà ad emergere io ho imparato a vivere in questa squadra con grande entusiasmo con grande empatia e devo ringraziare chi veramente ha creato la squadra non mi riferisco naturalmente a Enrico De Campo e questo si è capito che continua ad essere il nostro ispiratore continua ad essere la nostra anima ma ai tanti colleghi del direttivo che mi hanno sostenuto giorno per giorno mi hanno indirizzato mi hanno rassicurato mi hanno dato la forza di credere in quelli che sono sempre stati gli ideali sono venuti fuori adesso anche mentre Mimmo stava parlando gli ideali della nostra associazione la nostra associazione ormai da 30 anni perché ha in animo gli obiettivi della condivisione dei programmi abbiamo visto i webinar che abbiamo fatto tutti i mercoledì i giovani i giovani che sono i nostri più forti il nostro più forte capitale il nostro più forte investimento e non finirò mai di ringraziare tutti quelli che mi hanno veramente sostenuto uno per tutti Angelo Camaioni senza Luca De Campo non avremmo fatto nulla ma vedo Pino Tortoriello che con la sua grande forza la sua grande vehemenza ci ha dato un irresistibile coraggio naturalmente qualcuno sapeva che non fosse stato poi tutto facile da perseguire ma alla fine diciamo avere l'idea che i pazienti sono al nostro costante riferimento che sono l'obiettivo di tutto quello che noi facciamo e perseguire i rapporti col territorio che poi sono l'anima del PDTA sono stati questi i valori fondanti che mi hanno guidato in quest'anno e mezzo Livio Presutti tutti lo conoscete è la persona che tiene più a cuore di tutti la formazione dei ragazzi non ha mai finito di ripeterci che i ragazzi devono crescere li dobbiamo formare devono frequentare i nostri reparti devono frequentare le nostre saloperatorie li dobbiamo arricchire della nostra esperienza ci ha dato sempre le direttive su quello che dovevamo fare per i rapporti con le università con le reti di formazione perché questa è la cosa più importante e la OICO non li ha mai persi di vista questi obiettivi li abbiamo sempre perseguiti istante per istante abbiamo condiviso con i ragazzi i percorsi questo è quello che vi ha fatto vedere Mimmo prima ogni settimana c'era la corsa al mercoledì io non seguo il calcio non mi piace però la corsa del mercoledì per non perdere la connessione per sentire i colleghi che erano bravissimi sono stati veramente fantastici io ho imparato tanto e consentitemi un momento di commozione perché non sarei stato capace di farlo da solo e non pensavo di arrivare a sedermi in questa sedia oggi pomeriggio vi dico la verità i pazienti però rimangono comunque Enrico De Campora tutti lo conoscono non c'è bisogno di dire altro ma è quello che veramente ci ha dettato giorno per giorno le linee i pazienti al centro i pazienti al centro questa è stata tutta la vita di Enrico De Campora uno dei più grossi chirurghi e autorini del nostro tempo e ecco i pazienti al centro abbiamo deciso di fare questi quattro giorni per dare ai pazienti il meglio possibile il meglio che possiamo dare e dovremo secondo me rispondere a queste quattro domande in questi quattro giorni e questa è una slide vecchissima che io porto in giro da quando abbiamo cominciato a farla multidisciplinare ma è sempre validissima noi possiamo dare il meglio ai nostri pazienti se li vediamo tutti insieme se condividiamo la diagnosi se scegliamo i percorsi migliori se li inseriamo nel gom se li mettiamo nella rete perché dalla rete riusciamo ad avere le migliori risposte finisco vi voglio dare solamente un dato su cui riflettere è di questi giorni questo dato nell'ultimo triennio sono stati trattati in Campania 2200 pazienti di testa collo circa 700 l'anno 750 il dato che non è scritto là perché io vorrei che emergesse oggi pomeriggio è che l'80% di questi pazienti è rimasto in Campania però è stato trattato in 52 posti diversi riflettiamo un attimo sulla dispersione dell'espertise noi abbiamo il dovere di dare il meglio ai pazienti su questo dobbiamo riflettere questi sono i dati dell'incidenza dell'anno scorso bene che c'è nel futuro ma per quanto mi riguarda nel futuro c'è un grosso sostegno al nuovo direttivo un grosso sostegno al nuovo presidente che tutti abbiano la coscienza e la consapevolezza che siamo una grande squadra che lavoriamo e andiamo tutti nella stessa direzione per perseguire obiettivi che sono rimasti aperti ma che non si chiuderanno mai e che ci porteranno a tanti altri successi benvenuti di nuovo dottor Di Maria ma in che modo la pandemia ha influito sulla gestione dottor Ionna mi scusi in che modo la pandemia ha influito sulla gestione del paziente oncologico Marisa mi fa molto piacere il tuo complimento per avermi posso continuare a avere le diapositive accomunato a Di Maria perché lui è un vulcano è un grande motore della nostra associazione la pandemia l'abbiamo vissuta tutti la pandemia è stato un grosso momento di disorientamento almeno all'inizio nessuno sapeva che cosa fare le notizie erano diciamo le più disparate bisognava orientarsi bisognava organizzare cercare di capire di avere un comportamento comune questo è il vado a me comunque hanno prodotto i nostri amici del gruppo RL le varie società si sono organizzate noi abbiamo aderito a dare delle linee perché gli obiettivi erano quelli appunto di evitare i disagi dei pazienti e di evitare il contagio dal Pascale da dove io vengo ci siamo organizzati in questo modo come penso in tutti i posti sia stato fatto il triage come filtro iniziale abbiamo suddiviso l'agenda degli ambulatori in modo da non creare affollamenti i pazienti che si ricoveravano erano filtrati e scrinati col tampone molecolare nei nostri ambulatori l'abbiamo sempre fatto lo continuiamo a fare abbiamo adottato misure di protezione più strette che mai tutti i device di protezione per le visite abbiamo interdetto ai parenti e questo purtroppo è stato uno dei più grossi problemi da gestire perché nel napoletano sapete com'è la questione familiare la familias diciamo che segue il paziente dappertutto anche in sala operatoria continuiamo ad avere i colloqui telefonici con i parenti nella sala operatoria tutte le precauzioni che credo abbiano adottato tutti niente di particolare se non tutto quello che fanno gli altri abbiamo preferito fare le trachetomie per cutanea qualche volta ci è capitato di farle anche open ma con tutte le precauzioni tenendo conto di questa sorta di corona steps che sono diciamo i vari momenti del setting della sala operatoria dell'organizzazione del nursing per i pazienti tutto fatto con il rispetto delle regole abbiamo continuato a lavorare regolarmente abbiamo incrementato vedete da febbraio a maggio 113 pazienti nel 2020 e questo è il trend in salita che ha visto il Pascale diciamo accogliere una messe di pazienti notevolmente più alta rispetto agli anni precedenti così la radioterapia e le camionterapie sono aumentate di attività questo è l'incremento delle attività chirurgiche e chiudiamo quest'anno con 620 interventi a ieri contro i 476 dell'anno scorso abbiamo fatto anche un'app per seguire i pazienti a distanza un'app per la riabilitazione suolo app è stato un bel successo devo dire la rete oncologica che è stata potenziata ha validato 24 PDTA questi sono i dati vedete una serie di gomm 232 in particolare 123 interaziendali questi sono tutti i centri afferenti abbiamo incrementato il numero di schede sono 27.000 al 9 di novembre e questo è il dato del nel credo si disputa oggi pomeriggio nel nel piano di recovery è previsto la medicina di vicinanza di prossimità noi siamo a 2950 schede di richiesta dei servizi domiciliari questo ne discuteremo in dettaglio sono i vari momenti di accesso alla rete oncologica a cui sia i medici di medicina generale che gli specialisti possono accedere scegliere il gomm inviare il paziente l'attività scientifica è andata avanti allo stesso modo in quest'anno e abbiamo perfino brevettato un device per il trattamento dei delle recidive dei tumori del rinofaringe piuttosto che della base della lingua con l'elettrochemioterapia la internazionalizzazione è andata avanti e questo è quello che il mio direttore Attilio Bianchi seduto qua in prima fila ieri ha messo sulla chat e finalmente avevamo tutti pensato che aprire uno sportello dei sogni lui ce l'avesse con noi se fosse diciamo riferito a noi per cui ciascuno di noi aveva immaginato per un attimo di andargli a chiedere di tutto di più dal personale alle attrezzature ma in realtà così non è e poi preferirei che ve ne parlasse lui appena ci porterà i suoi saluti di un attimo di un attimo Grazie a tutti. 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 Abbiamo ripreso a lavorare, grazie al sostegno della nostra direzione, perché abbiamo il nostro direttore generale, il dottore Ferrante, che non ci ha fatto mancare sostegno e supporto. Abbiamo ripreso a lavorare. Non abbiamo di fatto non abbiamo mai smesso, anche in pieno lockdown abbiamo operato le urgenze. E' un'altra cosa, anche in un'altra cosa, che è stata eroica. lei ha curato un'altra cosa, lei ha curato un'altra cosa, lei ha curato un'altra cosa, lei ha curato un aspetto molto importante, l'etica nella vita associativa. Cosa ci può dire? Forse gli aspetti. Altro aspetta un'altra cosa, lei ha curato un'altra cosa, lei ha curato un'altra cosa, lei ha curato un'altra cosa. E' un'altra cosa, lei ha curato un'altra cosa. La società è una società di servizio. Questa società, quali erano le prorogate? Prima, doveva essere ovviamente riservata all'Italia centro-meridionale. Secondo, doveva essere, come dicevo, una società di servizio. Terzo, doveva arrivare, attraverso la condivisione di esperienze, di culture e di studi, a quello della promozione di una realtà culturale che fosse differente e che fosse nuova. In questo senso mi pare che il cammino è stato lungo. Siamo andati in giro per l'Italia, da Macerata a Cosenza, da Ascoli a Benevento, in giro per l'Italia, e mi pare che perlomeno per quello che attiene al coinvolgimento di queste aree così diversificate, qualche cosa abbiamo ottenuto. Ma anche dal punto di vista culturale il cammino è stato lungo e difficile. Siamo partiti dalla promozione culturale di elementi di base dell'ottorino-linguiatria e con il tempo abbiamo proposto nuovi temi, sempre più complessi, sempre più attuali, fino ad arrivare alle ultime esperienze, nel corso dei quali si è parlato, per esempio, di chirurgia robotica, si è parlato di chirurgia ricostruttiva, di chirurgia oncologica orale, di chirurgia endoscopica delle ghiandole salivari e così via dicendo, a testimonianza della promozione culturale che si stava determinando. Ma la cosa più importante era la partecipazione corale, era il coinvolgimento di tutti. e si diceva prima in che modo ha infuito la pandemia. La pandemia certamente è arrivata come un terremoto, ma non è vero, non è vero quello che è stato detto. La pandemia non ci ha tacitato. Abbiamo dovuto seguire diversi modi di espressione, abbiamo dovuto seguire diversi modi di parlare fra di noi. E infatti abbiamo inventato i webinar, ma i webinar sono stati anche un test per valutare il coinvolgimento. Un giorno mi ricordo che parlavo con Mimmo De Maria e parlavo con Franco Ionna e si diceva che cosa possiamo proporre come argomenti. E io dissi a Mimmo non proponiamo noi, facciamo un referendum, lasciamo che siano loro a scegliere i temi che vogliono che vengano affrontati. e questo deve servire innanzitutto a servire le esigenze che si fanno, ma serve anche come test per valutare l'entità del coinvolgimento. Devo dire che sotto questo aspetto i webinar sono stati un successo. Sono stati un successo intanto perché hanno vinto la concorrenza del calcio, che è la cosa più importante, ma sono stati un successo per la modalità di partecipazione, per l'entusiasmo con cui hanno partecipato tutti, per la continuità della partecipazione, fino a arrivare a delle proposte attuali che ci chiedono di continuare in questa esperienza. Quindi mi pare tutto sommato esperienza positiva. Certo, non tutto è stato realizzato. Il cammino è ancora lungo. Che cosa vogliamo noi da questa società? Vogliamo soltanto degli aspetti tecnici? Mi pare che sia qualche cosa di più. In tutti questi anni io spesso mi sono sentito rivolgere apprezzamenti, riconoscimenti, testimonianze anche di affetto. E ogni volta che sentivo queste cose io mi domandavo sempre, dico, ma come faccio io a far capire che in realtà sono io che mi sento in debito con ciascuno di loro? Come faccio a far capire a tutti questi amici, a questi colleghi, che al loro entusiasmo che io ho attinto per trovare la forza, per scalare quella montagna incredibile che volevamo scalare, che è quello della cultura, della conoscenza, della sapienza. Come faccio a far capire che alla loro genuinità, alla loro signorilità, che io ho fatto riferimento nel momento in cui mi sono trovato ad affrontare, come capita inevitabilmente, delusioni, amarezze, contingenti. E infine come faccio a far capire quanto sia profondo e sentito il mio apprezzamento per avermi insegnato il vero e più profondo significato di una parola, l'amicizia. E' veramente emozionante sentir parlare il professor De Campora in questi termini e sono bellissime le cose che ho sentito. Io ringrazio il professor De Campora, il dottore Ionna, il dottore Leo e il dottor Di Maria per tutto quanto hanno realizzato e vorrei invitare sul palco alcune figure che sono presenti e che ci hanno dato la possibilità di realizzare determinati passi. In particolare il dottor Di Maria parlava del dottor Mario Ferrante che è il direttore generale dell'azienda ospedaliera Sampio di Benevento e che vorrei invitare sul palco. Prego, si accomodi direttore. Buongiorno, benvenuto. Facciamo un saluto al nostro direttore generale. Direttore, soltanto due parole, se mi attivate il microfono per piacere per un saluto da parte del dottor Ferrante. Prova? Sì, va bene, perfetto. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Io vorrei solo dare un saluto perché diciamo, diamo via questi lavori, ma volevo solo ringraziare il dottor Di Maria per quello che sta facendo per la nostra azienda che sta portando avanti un discorso importante e che alla fine questa cosa ha una ripercussione non solo nella nostra azienda ma anche a livello provinciale e regionale. ci siamo incontrati anche con altri colleghi che volevano partecipare, stiamo facendo un'azione anche di sinergia per fare accordi, per fare ancora miglioramenti sia a livello regionale che fuori regione. In maniera tale, come ho sentito già parlare, moltidisciplinariamente si possono fare sicuramente grandi progressi, quindi io ringrazio gli organizzatori, ringrazio tutto quello che fate per la sanità e il dottor Di Maria che, avendolo nominato come primario, sono anche orgoglioso che sta portando avanti un discorso per l'azienda, per la unità operativa che lui dirige e speriamo che possiamo fare sempre di più e meglio. Grazie a dottor Ferrante. Il dottor Attilio Bianchi è presente in sala? Benvenuto dottore Bianchi. Allora, io intanto devo dire due parole perché il dottore Attilio Bianchi è stato direttore anche presso l'azienda nella quale io lavoro ed è una persona della quale conserviamo tutti un meraviglioso ricordo, siamo molto onorati di averla qui. Il dottore Bianchi è il direttore generale dell'Istituto dei Tumori Pascale. Prego, direttore. Volete attivare il microfono del dottore Bianchi? Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Poi se Mario ha salutato il dottore Di Maria, io sono costretto a salutare Franco, Franco Ion, perché me lo vedo, però ho capito una cosa nella introduzione, ho capito perché di mercoledì non l'ho mai visto e quindi questa cosa mi fa davvero capire, perché mi domandavo sempre, perché tra tutti i giorni dato che viene sempre la sera quando ha chiuso la sala operatora, passa sempre da me, perché questa cosa non avvenisse mai mercoledì? Torniamo seri, prendo spunto da quello che ha detto Mimmo prima, i pazienti che ci arrivano in condizioni sempre più bravi sull'oncologia. Io ho detto una volta, su un convegno, la prossima pandemia pandemia sarà il cancro. Se noi passassimo ogni giorno, quando ci dicono i numeri 200, 100, 50, 30, 500, per carità, dietro ogni morto c'è una persona che recede, c'è una famiglia, c'è una sofferenza, non c'è dubbio. Se provassimo a dire che ogni giorno i cancro in questo Paese sono mille, forse avremo un'attenzione maggiore su quanto tentiamo di fare ogni volta in prevenzione e quant'altro. Quindi cos'è che è bello in questo convegno? Una cosa che in fondo ci ha insegnato il Covid, cioè che territorio ed ospedale sono cose, categorie che abbiamo inventato noi, ma il percorso del paziente sfuma i confini amministrativi tra le aziende. Quindi noi dobbiamo stimolare sempre più momenti come questi in cui operatori cosiddetti territoriali e operatori degli ospedali si mettono insieme per ragionare. Quindi ben venga il mio augurio che questa sia solo la prima di una volta in cui la cultura diventi questo. Forse, anche se proviamo a cambiare i meccanismi di finanziamento, riusciremo a fare in modo che gli attori del sistema non si focalizzano sulla prestazione ma sull'intero percorso. L'altronde il PNE è l'anticamera in qualche modo degli esiti e di provare a finanziare gli esiti. E con questo augurio vi lascio, per me è un piacere davvero tornare in questa città, in questa stanza, in questa sala in particolare dove abbiamo fatto tanti convegni a Ruggi. E quindi buonasera a tutti e buon lavoro. Grazie dottore Bianchi. Adesso vorrei invitare sul palco il dottor Giuseppe Tortoriello, direttore della unità operativa di Otorino Laringoiatria dell'Ospedale del Mare. Buonasera dottore Tortoriello, nonché il presidente eletto a OI. Grazie e chiaramente un caro saluto ai due presidenti, al presidente Sabatino Leo e a Franco Ionna. Quando si parla di anima, di appartenenza, io appartengo sia all'Aoico e sia al gruppo Campano. Mi onoro di essere stato uno dei soci fondatori. E quindi per me è particolarmente sentito lo sforzo e soprattutto l'appartenenza. Dato che appartengo a entrambi, sono particolarmente fiero di avere in qualche modo adesso con l'unificazione aver dato i lavori all'inizio di un congresso così importante. Lasciatemi una riflessione. Oggi, se l'Otorino Laringoiatria è particolarmente grande dal punto di vista scientifico, dobbiamo ringraziare alcune figure, tra cui il professore Enrico De Campora. Lo ringrazio a nome di tutti perché grazie a questi grandi personaggi che hanno dato veramente lacrime e sangue e hanno, come dire, insegnato noi il mestiere, perché poi si tratta di un mestiere, siamo particolarmente, come dire, onorati e contenti. Ho citato il professore De Campora perché sappiamo tutti che è il vero motore. Si parla tanti di motori, come il motore di Mimmo Di Maria, però Mimmo Di Maria fa il bravo perché io dico che sempre dietro a un grande uomo c'è una grande donna. E io saluto la dottoressa Troncone, che è la vera, come dire, la vera spinta propulsiva del nostro collega. Presidente eletto della OI 2022-2024, colgo l'occasione per ringraziare veramente tutti perché è stata una battaglia veramente impegnativa che ci ha portato alla presidenza e io voglio utilizzare le parole del professor De Campora. Associazionismo, servizio. Io sono al vostro servizio e voglio fare in modo di poter nella mia, come dire, nella mia presidenza dare luogo ad iniziative che possono essere in qualche modo soprattutto condivisibile, non solo con, diciamo, gli amici ospedalieri ma con tutte le forze in campo. e quindi sarà un grande impegno ma, come diceva Frango Ionna, quando si condivide con gli altri, perché noi siamo una squadra, il lavoro diventa meno faticoso. E quando abbiamo dei capitani così importanti, lasciatemeli segnalare, con un pizzico di invidia, i due fuoriclassi, i due capitani sono in prima fila, il dottor Mario Ferrante e il dottor Attilio Bianchi. Lo dico pubblicamente, sono soltanto due di 16, credo, o 18 direttori generali della Campania. Bene, a loro due bisogna dare il merito e lo dico con grande orgoglio perché sono i due che hanno vinto la performance professionale nella gestione degli ospedali e di tutte le problematiche che noi abbiamo in campo della sanità. Lo so che siete i primi, però questo fatto va detto perché la gente non lo sa e io di questo sono particolarmente orgoglioso perché grazie a voi, grazie al vostro sostegno, oggi noi riusciamo, come diceva Franco, a bloccare la migrazione sanitaria. Grazie al vostro sostegno e al nostro entusiasmo dobbiamo ancora di più fare squadra e questo ci garantisce a noi una libertà nel movimento ma soprattutto ai pazienti che devono avere il sostegno e noi dobbiamo dare loro il massimo risultato dal punto di vista chiaramente della salute che sta al primo posto, la salute, è fondamentale ma questo, se mi consentite ancora, è una situazione che tutti noi grazie al nostro impegno riusciamo a dare loro la massima serenità e tranquillità. Ci sono ancora, lo dico a voi in qualità di rappresentanza, lo diremo poi al Presidente che ha i numeri, ancora molti pazienti che vanno a operarsi. Ma allora il danno è la beffa, quindi non solo il ritardo per le motivazioni del Covid, i tumori sono aumentati, vanno fuori e molti non hanno le possibilità economiche. Quindi un ringraziamento veramente sentito, ringrazio la dottoressa Rondinella, bravissima, abilissima a Otorino, ma me la riscopro adesso anche dal punto di vista come un'ottima copresentatrice e questo gli dà molto merito perché lo fa con grande impegno e con grande determinazione. In bocca al lupo ai due Presidenti e soprattutto diciamo che solo uniti noi riusciamo ad ottenere risultati e la dimostrazione l'avete data con la mia Presidenza. Posso dire con un pizzico di orgoglio che sarò il primo Presidente eletto in modalità telematica, quindi il Covid ha scompaginato anche l'elezione del Presidente. Ancora grazie. Grazie di cuore. Grazie, grazie al dottor Tortoriello. Allora, adesso direi che possiamo invitare la dottoressa Chiara Daina, ecco che è arrivato anche il nostro Presidente. Benvenuto Presidente, buongiorno. Dottoressa, prego, si accomodi. Sì, magari l'altro, sì. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Governatore, grazie per la sua presenza. Chiamerei a questa tavola rotonda i relatori di questa tavola rotonda, se sono già arrivati mi auguro di sì. Innanzitutto vedo il dottor Maggi qui in prima fila, se si vuole accomodare, il Presidente della FNOMCEO, il dottor Anelli. Dottor Ionna, sono già arrivati i nostri ospiti? No, mi dicono di no e quindi come facciamo? Va bene, quindi mandiamo in onda questo video. Buonasera, Annalisa Napoli, rappresenta, intanto presentiamo gli ospiti che si sono appena seduti, rappresenta il Segretariato Nazionale dei Giovani Medici, mentre il dottor Maggi è qui con noi e rappresenta appunto il Sindacato degli Specialisti Ambulatoriali. Dovremmo avere qui, ecco, il dottor Guido Quici, che invece è il Presidente del Sindacato Medico Italiano, rappresenta i medici ospedalieri. Buonasera. E poi ci manca il dottor Silvestro Scotti e Filippo Anelli, che appunto è il Presidente della FNOMCEO, e Scotti, che invece rappresenta il Segretario Nazionale della FIMG, della Federazione di Medicina Generale. Ma prego, mandiamo pure in onda il video, se è pronto. Cari colleghe e cari colleghi, a nome della Società Italiana di Ottorino La Rigoriatria vi porgo un caloroso saluto a questo convegno congiunto dell'AOICO e del gruppo campano di ORL e nello stesso tempo mi complimento con i miei rispettivi Presidenti, Sabato Leo, Franco Ion, e anche con il Presidente Onorario, Professor De Campola. Complimento anche con il lavoro assiduo che è stato svolto da Domenico Di Maria e da Pino d'Ortonese, a cui porgo i miei più calorosi saluti. E anche il rammarico per non aver potuto partecipare, sebbene l'avessi programmato da tanto tempo, a questo convegno per ragioni purtroppo logistiche a cui non ho potuto porre rimedio efficace. Sono certo che sarà un congresso molto riuscito, sia per il programma che ho avuto modo di vedere, sia per partecipazione di pubblico, come peraltro è tradizione di queste due società. Buon lavoro a tutti! Rieccoci, allora in attesa dei due ospiti mancanti, intanto direi di iniziare appunto questa tavola rotonda. Il titolo che è stato attribuito a questo momento di confronto è il gap sanitario tra Nord e Sud, un tema atavico, un tema di cui si è sempre detto, si è tanto parlato, della differente offerta sanitaria tra il Nord e il Sud. Ma io sono una giornalista e da quando ho iniziato il mio lavoro mi sono bene o male sempre occupata di sanità e quante volte mi sono trovata a dover raccontare le differenze di offerta sanitaria tra Nord e sono del Nord e del Sud. Tante, troppe volte. E ancora, diciamo, non è stata completamente colmata questo divario, questa disparità di accesso ai servizi sanitari. Ma vorrei sfruttare questo momento. Eccoci, Filippo, ciao. Ben arrivato. Ben arrivato, ciao. Filippo Anelli, appunto, presidente della FNOMCEO che tutti voi conoscete. Stavo appunto introducendo il tema al centro di questo confronto che è appunto il gap sanitario tra Nord e Sud. Ora, se ne è sempre tanto parlato, abbiamo detto, e questo però è un momento storico, unico e spero per certi versi irripetibile di rinascita, di ripresa. Il concetto che bisogna far passare è appunto la ripresa, la ripartenza dopo la resilienza pandemica. Ci sono delle risorse certe messe a disposizione dall'Unione Europea e dal Governo italiano. Quindi mi riferisco chiaramente al piano nazionale di ripresa e resilienza. Ecco anche Silvestro Scotti che sta arrivando. E in tutto si parla di 18,6 miliardi di euro, di cui 15,6 miliardi di euro messi a disposizione appunto dall'Unione Europea. Ben arrivato Silvestro Scotti, segretario nazionale del sindacato dei medici di Medicina Generale. Abbiamo qua tutti rappresentati, tutti i sindacati, le categorie assistenziali, tutto il setting, dal territoriale all'ospedaliero. Quindi è una grande occasione, in più abbiamo anche appunto l'onore di avere con noi il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Appunto, è un'occasione di ripresa grazie a queste risorse certe. Quindi come gestire questa fase di transizione, come sfruttare al meglio queste risorse, come fare in modo che questo sia veramente un momento di rinascita, di ripresa? E questo momento oggi è sfruttiamolo per veramente alimentare un pensiero positivo. Lo dico da trentenne, perché ho voglia di futuro, ho voglia di un futuro migliore, e quindi più che continuare a lamentarci di quello che non funziona, di quello che non c'è, io direi di sfruttare questa occasione per dire quello che c'è, i progressi che la stessa Regione Campania ha fatto, perché lo dice il monitoraggio Lea del Ministero della Salute, il punteggio si è alzato, quindi dal 2012 a oggi, la Regione Campania è uscita dal commissariamento nel 2019, sì, è ancora una Regione in piano di rientro, però ci sono tutti i presupposti per crescere e implementare l'offerta sanitaria di questa Regione, del Sud in generale, e quindi, come dire, pensiamo davvero positivo, perché per costruire bisogna per forza avere una visione, e lamentarsi e basta, come siamo soliti, accendere la televisione e questo non funziona, leggi il giornale, sì, è vero, è giusto criticare gli aspetti, le lacune, però per costruire bisogna per forza di cose avere in mente degli obiettivi, delle sfide, e poi tirarsi sulle maniche e andare avanti e fare. Ecco, questo l'avevo anticipato al telefono anche ai relatori, che infatti forse, però, così, come dire, bisogna avere un po' di entusiasmo perché già la pandemia ci opprime, se poi non guardiamo in avanti, e vorrei partire appunto dalla missione 6 del PNRR, quindi il piano prodotto dal governo per la riforma dell'assistenza primaria, e quindi mi rivolgo al dottor Scotti, chiedendo se effettivamente, visto che sono previste la realizzazione, il piano prevede almeno 1350 case della comunità, 400 ospedali di comunità, 600 COT centrali, per il controllo da remoto dei dispositivi di telemedicina, e quindi questa veramente rappresenta un'occasione di riforma dell'assistenza primaria da sud a nord e da nord a sud, quindi un po' per rendere anche più omogeneo e capillare la, come dire, questa sanità di prossimità, perché il futuro della sanità, ormai lo sanno anche i muri, deve essere portare la sanità a casa del paziente, essere prossima, vicina al paziente, una sanità di rete e cooperativa. Veramente siamo di fronte ad un'occasione unica per riformarla, l'assistenza primaria? A parte che mi scuso per l'arrivo in corsa, anche per la presenza di ospiti illustri, che saluto, che mi fa piacere ascolti, oltretutto, anche perché sia io che il Presidente Anelli veniamo da un convegno al Senato dove era presente Domenico Mantohan che in qualche modo, in qualità di Presidente Agenas, ha dato in qualche modo delle risposte anche a delle nostre provocazioni che erano coerenti con quella che è la discussione di questa giornata. Beh, io devo dire la verità, vivo una dinamica un po' duale, perché, come dire, ho la necessità di una rappresentanza nazionale sono un medico di famiglia di questa Regione e quindi in qualche modo valuto le necessità di una discussione di livello nazionale, valuto la necessità di un'esecuzione e discussione a livello regionale. Personalmente, devo essere sincero, non lo dico per piageria, credo che la Regione Gabbani abbia strutturato in questi anni una serie di strumenti di programmazione che non c'erano precedentemente, perché la Regione Campania ha un suo piano territoriale che è stato fatto, un piano territoriale che già prevede in qualche modo le aggregazioni che potrebbero essere le basi operative sia delle case di comunità cosiddette SPOC, sia delle case di comunità ABO, ovvero quelle che poi corrispondono in termini contrattuali alle aggregazioni funzionali territoriali, che qua in Campania hanno una connotazione con un'espressione assistenziale, hanno una connotazione che prevede in un certo numero di anni sulla base del successivo accordo regionale per la medicina generale anche la fornitura di un certo tipo di personale legato ad alcuni studi che si aggregano che potrebbero essere quegli SPOC che garantiscono l'H12 in coordinamento con tutti gli altri medici. Ora, non sempre per piageria nei confronti del governatore, ma siamo in un territorio che secondo me è emblematico. Salerno è un territorio, la provincia di Salerno è un territorio in cui tu devi ragionare con il modello nella sua generalità. Perché Salerno tu hai la città, ma hai anche Vallo della Lucania, hai anche paesini dispersi dove l'idea di una casa di comunità ABO ogni 50.000 abitanti. Oggi si faceva il conto al Senato che la Moratti ha liberato il suo nuovo piano con 204 case di comunità, la superficie in chilometri quadrati della Lombardia sarebbe una casa di comunità ogni 100 chilometri quadrati. Se io immagino 100 chilometri quadrati di Vallo della Lucania come senso di prossimità, devo dire la verità qualche difficoltà ce l'avrei. Il problema è come con, secondo me, gli strumenti che abbiamo all'interno del piano sanitario, che abbiamo negli accordi regionali dell'area convenzionata che si dovranno allineare con gli accordi delle altre soggetti convenzionali, in particolare con la specialistica ambulatoriale. Come la casa di comunità ci connetterà soprattutto nell'integrazione con l'ospedale. Io la vedo l'Hub, soprattutto un soggetto che abbia questa funzione nella capacità attraverso la cotta e i distretti di aiutarmi nella gestione di rientro e di entrata di questa tipologia di pazienti insieme al fatto che poi sembra che tutto si risolva con la telemedicina. La telemedicina ha, ahimè, delle difficoltà che sono uno, quello della rete se è presente su tutte le aree territoriali, ma pare che il sistema del PNRR investa anche in termini diciamo di infrastrutture. La parte poi del raggiungimento di queste case di comunità, io mi permetto di dire che dieci anni fa io sono stato a Southampton che è un sobborgo vicino Londra dove c'era un sistema di medicina generale organizzato per practice che sarebbero i gruppi di medicina generale inglesi riuniti a creare una trust si chiamava che sarebbe quella che dovrebbe essere in qualche modo la casa di comunità hub perché praticamente addirittura c'era in quel caso la connessione con il farmacista e addirittura si praticavano presso quella stessa sede le terapie per esempio le chemioterapie oncologiche cioè era l'oncologo che si recava presso la struttura territoriale dove erano presenti i medici famiglia i farmacisti per erogare e quindi permettere a quel paziente di avere un'erogazione vicina in qualche modo al proprio modello di assistenza territoriale però quel centro era costruito nel punto di snodo di tutti i pullman e le ferrovie di quell'area territoriale cioè se non si ragiona nell'ottima di un modello che è a tutto tondo e che non investe solo la sanità investe i trasporti la mobilità la capacità di un servizio sociosanitario che accompagni questi cittadini perché se stiamo parlando di affrontare la fragilità e poi non ce l'abbiamo così vicina ovviamente noi avremo bisogno di chi trasporta noi dal nostro congresso perché questa è la nostra natura quindi non è un valore oppositivo noi offriamo tutta la nostra consulenza e capacità e anzi io stimolo la medicina generale a ricavare e penso che tutto il sistema sanitario in questo momento nessuno escluso sia affaticato da chi lo governa a chi esegue perché veniamo da un anno e mezzo non semplice io stimolo tutti ad avere le massime partecipazioni però stimolo altrettanto ad avere connessione rispetto alle difficoltà di ognuno cioè la la mia percezione che molte volte quelle che sono le mie difficoltà io rimango in solitudine perché le mie difficoltà non vengano perfettamente percepite se tutto questo sistema di rete porta sul tavolo quelle che sono le mie difficoltà quotidiane mi dà un aiuto in termini di supporto come rete anche sul piano dell'offerta perché oggi la telemedicina ha un valore se domani si potrà offrire in termini di prossimità al mio congresso noi abbiamo definito il luogo di cura alla persona non il luogo fisico perché noi il progetto vero che dovrebbe essere dietro il PNRR non è costruire un muro nel quale la persona trova le cure e fare in modo che la persona sia il luogo di cura sulla base delle sue caratteristiche individuali sulle caratteristiche orogeografiche sulle caratteristiche delle aree di densità di popolazione in questo secondo me le regioni avranno un ruolo determinante ma d'altronde oggi devo dire Mantohan lo ha affermato cioè stiamo creando una cornice nella quale le regioni debbano in qualche modo e lo faranno e io devo dire sono speranzoso perché sinceramente giro l'Italia a complimentarmi con la regione campana la facevo vedere prima al presidente Anelli per la piattaforma informatica che è stata fatta in questa regione io in tempo reale ricevo dei miei pazienti i risultati dei tamponi in qualunque sede li facciano sia pubblica che privata questo mi permette di fare il medico meglio perché se quel paziente mi chiama con una sintomatologia io posso verificare in tempo reale con una notifica sul mio telefonino se è vaccinato se non è vaccinato se ha fatto un tampone il risultato del tampone questo permettetemi io lo trovo anche un modello di cura in termini di sicurezza sul lavoro per un medico convenzionato che non è inserito all'interno di una struttura che significa che per me io approccio quel paziente con una riduzione del rischio relativamente alle informazioni che ricevo e immagino quella piattaforma come possa essermi utile in una valorizzazione complessiva che sta mettendo insieme vedo Attilio Bianchi anche le singole piattaforme ospedaliere per le varie aree questa è secondo me la vera rete di comunità quindi alla comunità che noi valorizziamo come comunità di persone che poi può essere il quartiere in cui io opero all'interno di una città può essere il piccolo paesino deve corrispondere a una rete di comunità professionali più che sedi fisiche perché le sedi fisiche che sono utili se saranno modello soprattutto di confronto tra noi professionisti nel prenderci in carico le caratteristiche di quel paziente e decidere insieme attraverso la partecipazione di tutti qual è il modello assistenziale migliore da dedicare e personalizzare a quel paziente è la risposta vera se poi la intendiamo come ospedalizzazione del territorio per carità tutto potrà essere dimostrato devo dire la verità non credo che sarebbe il caso di parlare di prossimità a questo punto eviterei di parlare di prossimità e quindi insomma a Genas sappiamo che non può entrare in un grado di specificità troppo approfondito e saranno poi le regioni a modulare questo scheletro insomma in base alle esigenze e alle conformità anche territoriali della regione del territorio appunto dottor Maggi mi rivolgo a lei la presa in carico di prossimità coinvolge anche gli specialisti ambulatoriali oggi quanti sono e come possono essere meglio impiegati oggi i medici specialisti ambulatoriali sono circa 20.000 in tutta Italia e chiaramente nelle varie branche specialistiche si trovano sono gli specialisti in questo caso veramente di prossimità sono i primi specialisti che vengono generalmente diciamo che la popolazione in qualche modo va a cercare come prima istanza quindi sono quelli che troviamo nei poliambulatori delle ASL nelle case della salute oggi quelle esistenti e che poi troveremo nelle case anche di comunità però con una modalità differente oggi il rapporto della specialistica è legato a un sistema di natura più che altro consulenziale cioè ho bisogno di una visita cardiologica e si fa la visita cardiologica il piano nazionale PNRR la nuova metodologia il decreto 71 diciamo che in questo momento è in itinere prevede invece una cosa differente oltre alla parte consulenziale la presa in carico del paziente che chiaramente deve essere fatta da più professionalità perché chiaramente un paziente ha varie necessità un paziente cronico un paziente cronico ma quasi tutti i pazienti ormai la medicina diciamo moderna non è più quella del singolo professionista la medicina moderna è legata anche a super specializzazioni cioè quello che sa tutto sulla mano destra magari se vai sulla mano sinistra magari a meno capacità perché ci sono le conoscenze in medicina sono talmente ampie che solo un'equipe multiprofessionale multidisciplinare può risolvere i vari problemi il problema qual è? cercare di far capire comprendere a livello organizzativo che la sanità è un tutt'uno in realtà con determinate funzioni differenti ovviamente c'è una parte di prossimità dove noi cerchiamo in qualche modo di intervenire evitando l'ospedalizzazione cioè il paziente deve essere curato preso in carico vicino dove abita vicino al posto di lavoro per evitare che magari finisca in ospedale e chiaramente l'ospedale deve invece in qualche modo seguire quella che la cuzie quella situazione d'emergenza quindi deve essere d'eccellenza per dare questi tipi di risposte insieme sono la sanità noi sino oggi l'abbiamo un po' divisa in compartimenti stagni noi parliamo sempre di silos quindi su questo è stato uno dei più grossi errori ma non solo nell'ambito organizzativo anche tra come categorie professionali molto spesso ci siamo contrapposti sotto questo aspetto in realtà non dobbiamo contrapporci dobbiamo essere un'unica organizzazione un'unica singola capacità professionale che però deve essere messa al servizio del cittadino però scusi dottor Maggi la interrompo perché lei mi ha detto anche che molto spesso gli specialisti ambulatoriali sono impiegati oggi per questioni di necessità di emergenza dentro gli ospedali e potrebbe però anche essere aumentato il carico di lavoro settimanale innanzitutto per ridurre le liste d'attesa per evitare gli accessi propri in pronto soccorso che diventa come un'autostrada per ricevere subito le prestazioni le liste d'attesa si abbattono fuori dall'ospedale quindi non bisogna fare andare né in ospedale ma cercare di dare il servizio immediatamente i medici specialisti ambulatoriali sono stati negli ultimi anni diciamo usati molto in attività ospedaliere proprio perché essendoci piani di rientro il blocco delle assunzioni praticamente si è andato a coprire parte di quelle che erano delle carenze di organico all'interno degli ospedali proprio con gli specialisti ambulatoriali però quello quindi che ti dice come un professionista in quanto tale è là il valore aggiunto in quanto professionista non in quanto praticamente è il rapporto giudico che lui ha però indipendentemente da questo chiaramente la funzione che io ritengo che lo specialista ambulatoriale abbia e che debba dare maggiormente è proprio sul territorio quindi sia nelle case di comunità ma soprattutto a casa dei pazienti la domiciliarità durante la pandemia molti specialisti ambulatoriali hanno continuato a seguire i loro pazienti proprio a domicilio perché i pazienti non è che c'è il covid ma diciamo tutte le malattie croniche il diabete le cardiopatie le persone che non si potevano spostare da casa con patologie importanti non è che sono spariti che non ci stanno più quindi ci sono e devo dire che su questo la specialistica ambulatoriale ha dato molto molto e diciamo nel contratto della medicina specialistica proprio una delle funzioni è proprio l'attività domiciliare quindi la capacità proprio di prossimità altra cosa molto importante che condivido anche con Silvestro o Scotti sul discorso di un'organizzazione generale noi abbiamo anche previsto la possibilità che gli specialisti ambulatoriali possano andare anche negli studi dei medici medicina generale domani che saranno e potranno essere organizzati anche studi di spoc rispetto a quelle che potrebbe essere la casa comunità quella diventerebbe veramente un'azione di prossimità quando il cittadino sa che proprio nel studio del proprio medico di famiglia di fiducia trova anche uno specialista di fiducia perché voglio ricordare che anche lo specialista ambulatoriale è di fiducia cioè uno può chiedere di fare una visita specialistica da quel collega quindi chiaramente perdendo quelle possesse priorità se c'è una lista un po' più lunga però lo può scegliere perché anche l'attività di prossimità è legata molto a quello che è il rapporto fiduciario tra medico e paziente l'alleanza medico-paziente perché questo lo vediamo lo vediamo anche in corso della pandemia il fatto di comunicare di avere fiducia reciproca permette poi di raggiungere i risultati che abbiamo per esempio con la campagna vaccinale dove non c'è stato questa possibilità di rapporto ovviamente poi ci sono le persone che non hanno potuto confrontarsi con il proprio collega il proprio medico di fiducia perché poi la medicina si fa in due si fa il medico ma si fa insieme al paziente cioè non è che uno è più dell'altro insieme devono risolvere il problema uno mette a disposizione le sue capacità le sue conoscenze l'altro deve mettere anche non solo la fiducia ma il fatto di mettere l'impegno e insieme risolvere il problema quindi come la domanda l'orario settimanale potrebbe essere noi abbiamo un problema ecco per esempio stiamo cercando tanto gli specialisti in Italia dove stanno dove stanno noi abbiamo gli specialisti ambulatoriali che hanno una media oraria di 23 ore settimanali soltanto se prendessimo tutti gli specialisti ambulatoriali li portassimo a 38 ore noi avremmo assunto 5.600 nuovi specialisti a 38 ore quindi un'offerta enorme sotto l'aspetto generale e li abbiamo già sono il gen servizio non dobbiamo neanche trovarli e cercarli e già gli accordi collettivi nazionali prevedono questa possibilità cioè di dargli l'incremento sto lavorando in sede del ministero per avere anche ulteriori finanziamenti in questi giorni probabilmente proprio cercando di trovare anche delle risorse economiche per potergli aumentare piano piano queste ore di specialistica ambulatoriale tra l'altra cosa è anche un fatto sociale importante perché noi lavoriamo e lavoriamo anche con dell'incompatibilità ci sono colleghi giovani che hanno tutte l'incompatibilità e lavorano soltanto con 5 ore a settimana perché ancora non gli restano metano cioè 5 ore a settimana non gli permettono di vivere quindi rischiamo anche di perdere delle professionalità quindi su questo diventa un fatto importante però la cultura che dobbiamo avere chiaramente è anche quella di cominciare a lavorare tutti quanti insieme in funzione di quelle che sono le necessità dei pazienti innanzitutto ma ovviamente anche della comunità l'ospedale comunità il caso la comunità vuol dire comunità e io rimango sempre dell'idea che il servizio sanitario nazionale italiano forse è la cosa migliore che abbiamo e che dobbiamo cercare di capire di governarcela e di conservarcela perché noi magari non diamo molta rilevanza a quello che abbiamo perché magari l'abbiamo tutti i giorni ma pensate in quei paesi dove in questo momento col covid c'è chi si sta vendendo casa per pagarsi le terapie intensive o pagarsi i ricoveri ospedaliari noi in Italia li diamo li diamo tutti e li diamo gratuiti quindi è un bene prezioso ma non soltanto per il covid anche per il resto delle patologie che va difeso perché siamo prima che i pazienti siamo cittadini contribuenti quindi è casa nostra la sanità siamo veramente noi non è qualcos'altro dottor Quici vorrei farla parlare proprio del personale ospedaliero visto che la manovra la manovra di bilancio per il 2022 già prevede la stabilizzazione di 33.000 medici e infermieri quelli utilizzati durante l'emergenza sanitaria ma non solo l'articolo 93 dovevo leggerlo perché l'articolo 93 ha il fine appunto di assicurare gli standard organizzativi e qualitativi prevede anche degli stanziamenti in più per le regioni quindi autorizza la spesa massima di 90 milioni virgola 9 per il 2022 150 milioni per il 2023 328 milioni per il 2024 fino insomma a un miliardo a decorrere dal 2026 e inoltre cancella il tetto della spesa del personale calcolato sui costi del 2004 meno l'1,4% fissandolo fino al 15% tanto un tetto che le regioni non avevano mai superato perché servono i soldi per assumere quindi non c'erano i soldi quindi non si sforava neanche quel tetto ad ogni modo sembra che la manovra quest'anno veramente dia una nuova boccata di ossigeno anche per le regioni del sud soprattutto per le regioni del sud ma lei è d'accordo? Ammiro l'ottimismo ma io sono concreto non è le cose quindi cercherò di essere concreto secondo me il finanziamento al servizio sanitario nazionale si poteva basare su tre gambe il fondo sanitario nazionale ovviamente il PNRR e il MES la politica non ha voluto il MES sono rimaste due gambe una la vedo un po' fragile il fondo sanitario nazionale l'altra mi sembra una protesi che si adatta poco e spiego perché il motivo è semplice il fondo sanitario nazionale è ancora basso i due miliardi sono diciamo già una conquista ma le regioni non riescono con due miliardi a sopperire una serie di cose faccio un esempio solo il rinnovo del contratto del comparto vale un miliardo poi ci sarà il rinnovo della dirigenza il rinnovo della convenzionata poi farmaci e tutto quello che volete voi quindi diventa complicato da parte delle regioni la sostenibilità poi il PNRR è un discorso a parte perché è un discorso di natura strutturale l'altro aspetto è che quindi qua dovremmo stare molto attenti è che queste risorse qui sono ancora squilibrate fin quando c'è il decreto 66 2011 che porta ad una ripartizione dei fondi tra le regioni basata soltanto sull'età io l'ho approfondita questa questione il problema è che se io vado a fare gli ultimi 5 anni tra la campagna e l'Emilia Romagna in base alla quota media pro capite e in base alla popolazione la campagna 1 miliardo 350 milioni in meno rispetto all'Emilia Romagna la Lombardia 950 milioni in meno sempre rispetto all'Emilia Romagna quindi quando vedevo qui nord-sud io direi nord-centro-sud perché focalizzerei l'attenzione su un sovrafinanziamento dell'Italia centrale rispetto alle altre parti questo è il primo aspetto il secondo aspetto che è altrettanto importante è l'assunzione di personale meno male un po' di boccata d'ossigeno ma quando 450 medici rifiutano di entrare alla scuola di specializzazione in medicina d'urgenza quando 90 chirurghi rifiutano di entrare alla scuola di specializzazione simile c'è un problema di programmazione e poi tutti questi colleghi che entrano alla scuola di specializzazione si specializzeranno tra 4-5 anni e quando il PNRR prevede l'assunzione di infermieri nel 2027 con la finanziaria del 2027 la cosa mi preoccupa perché sposta tutto il problema al 2027 ma nel frattempo il PNRR prevede che il 50% del finanziamento della riforma legata agli ospedali e alle case di comunità derivi dai processi di deospedalizzazione in un contesto dove i posti letto sono bassi e la campagna è uno di quelli che ha i posti letto più bassi forse in Europa allora se io devo deospedalizzare per recuperare risorse che mi servono per costruire gli ospedali di comunità che servono a loro volta a deospedalizzare si crea un cortocircuito allora io mi chiedo ma perché non convocate qualche volta i professionisti e chiedete ai professionisti che cosa come la pensano a me non risulta che in nessuna istituzione siano stati convocati i professionisti gli si è stato chiesto il loro parere poi la politica farà quello che vuole ma tecnicamente probabilmente al di là dei soliti noti tecnici che ci sono nelle solite stanze probabilmente chi ci lavora sul campo ha dei problemi che vorrebbe magari esporre e io ringrazio di questa opportunità quindi ritornando alla sua domanda il discorso è che c'è veramente bisogno di medici specialisti perché altrimenti succede come in epoca covid che l'odontogliare è dovuto andare in pronto soccorso l'oculista è dovuto andare in un'altra parte e questo crea un grosso disagio ma soprattutto implica la sicurezza delle cure allora e tra l'altro l'altro aspetto l'ospedale deve fare ospedale perché necessariamente l'ospedale deve recuperare tutte quelle liste di attesa lunghissime che si sono venute a creare in questo periodo perché purtroppo si parla di covid non si parla come si è detto prima giustamente di oncologia non si parla di cardiologia c'è gente che era terrorizzata a venire negli ospedali e poi a casa ci ha lasciato la pelle perché magari avrà avuto un infarto che è passato sotto traccia quindi dobbiamo fare in modo tale che l'ospedale diventi più flessibile allora non è possibile immaginare una riforma del territorio con DM71 e non prevedere una contestuale riforma del DM70 dove c'è troppa rigidità gli ospedali sono troppo rigidi gli ospedali devono essere molto più flessibili devono essere aperti sul territorio e poi come diceva Antonio bisogna eliminare questi benedetti silos occorre ragionare in termini di filiera della sanità territorio ospedale territorio un coordinamento tra i professionisti perché con la tecnologia derivante dal PNRR e meno male che c'è c'è un altro rischio tra nord e sud le aziende che sono ben attrezzate soprattutto a nord avranno delle risorse che saranno la ciliegina sulla torta ricordo a tutti che il 25% delle famiglie italiane non ha accesso a internet che in termini di accesso alle reti informatiche noi siamo il 25esimo paese su 28 e poi c'è un netto divario tra nord e sud per quanto riguarda l'accesso le competenze e tutta una serie di altri quindi è importante allocare le nuove tecnologie nel posto giusto finisco allora cosa succede la robotistica giustamente negli ospedali ma evitare di mettere delle tecnologie di altissima valenza in posti dove magari non servono e i famosi 3199 altre tecnologie da acquistare mi preoccupano solo su una cosa che non ci sono i professionisti allora è bene sostituire quelle vetuste ma io ho il terrore che si comprano delle alte tecnologie le si inaugurano si fa la conferenza stampa e poi si mettono nel deposito perché magari non ci stanno i radiologi i fisici medici e così via quindi una simbiosi tra professionisti tecnologie risorse e una correlazione interprofessionale tra ospedale e territorio attraverso una finita questo prevede però la casa di comunità a diversi livelli di rete 4 punti io la individuo attraverso una serie di stazioni intermedie che rallenta il processo perché fino al 2027 che si costruiranno queste cose cosa succederà che il paziente aggirerà tutte queste cose qua arriverà sempre in ospedale speriamo di no cerchiamo di fare un po' di educazione sanitaria perché poi la sanità il buon uso della sanità è soprattutto anche una questione di mentalità e di conoscenza di cultura quindi di sapere anche utilizzare il servizio sanitario e lo dico da trentenne perché i miei coetani insomma tante volte non si sa neanche come fare il prelievo si va a gritti all'ambulatorio privato quando non si sa neanche che l'ASL vai all'ASL non devi prenotare c'è un problema un problema di comunicazione però tra l'ottimismo e il realismo se permette sono abbastanza l'astuzzico sono qui apposta ma volentieri io sto qui apposta anche io Annalisa le do del tu no ti do del tu visto che abbiamo quasi la stessa età tu rappresenti appunto i giovani medici e a proposito appunto di assunzioni di medici che mancano di che paghiamo un po' lo scotto di una cattiva programmazione degli anni passati oggi però le borse di specializzazione sono state portate a 12.000 cercando di colmare quella che era l'imbuto l'imbuto formativo quindi finalmente inoltre il decreto Calabria stabilisce che gli specializzanti dal terzo anno in poi possono essere assunti nelle corsie degli ospedali grazie non è stato tanto utilizzato il decreto Calabria in tal senso in questi anni perché le università facevano fatica a lasciare i propri specializzanti agli altri ospedali ma il 29 novembre finalmente è sbarcato l'accordo quadro tra il ministero della ricerca e il ministero della salute è sbarcato in conferenze state e regioni e in modo tale che le regioni hanno questo accordo quadro e riescono di più a gestire il percorso formativo dello specializzando e quindi magari accederlo ad altri ospedali in modo tale che possa veramente dare una mano in corsia mi sembra anche questa una notizia positiva io cerco di valorizzare diciamo quello che c'è per poi andare avanti però sempre delle indagini della Nau di qualche anno fa cosa dicono? Dicono che mille medici e specializzati mille scusate mille laureati e specialisti ogni anno prendono e vanno all'estero e 3.000 medici ogni anno più o meno si licenziano e preferiscono il privato perché è più flessibile perché la paga è diversa perché il chirurgo che ha già una certa età e ha già fatto carriera eccetera non vuole giustamente anche fare i turni di notte e quindi vai al privato e costruisci un po' un contratto su misura più o meno adesso lo dico molto banalmente tu che rappresenti appunto i giovani medici come la vedi? Sì la pandemia ha slatentizzato tutta una serie di criticità che erano già note e che si protraevano da diverso tempo ma allo stesso tempo ha dato comunque modo di poter fare una revisione interna del servizio sanitario nazionale e di poter ripartire da quelle che sono le criticità per dare delle soluzioni come giovani medici le parole chiave sono sicuramente formazione e programmazione quindi dicevamo l'aumento dei posti per la formazione post lauream che è stato un provvedimento elaborato quindi messo in atto nel corso della pandemia e che ha dato una soluzione immediata ad una carenza di organico che era frutto di una programmazione errata che si protraeva da diverso tempo ma allo stesso tempo una priorità fondamentale è quella di salvaguardare la formazione quindi parlavamo di nuovi setting assistenziali di miglioramento dell'assistenza sul territorio nel sistema dell'emergenza urgenza ma al di là di quelli che potranno essere i setting strutturali quindi fisici in cui erogare prestazioni e servizi è necessario partire dal modello di base cioè il modello formativo quindi già dalla formazione pre lauream fino al post lauream con una riorganizzazione una reimpostazione della didattica per gli aspiranti medici con una costante revisione una costante verifica di quelle che sono le competenze le skill che i medici specializzanti acquisiscono nel corso dei vari percorsi formativi post lauream proprio per essere inseriti in una maniera strutturale e lungimirante all'interno poi degli sbocchi professionali post specializzazione proprio per evitare una che si perpetui una cattiva programmazione e soluzioni tappabuchi all'interno del sistema parlavamo quindi delle case di comunità di una revisione dell'assistenza sul territorio in cui si è un po' riscoperta la funzione centrale del medico di famiglia ma non solo di tutto il sistema delle cure primarie e si è visto che per fronteggiare qualsiasi situazione di emergenza o di bisogni di salute è centrale un sistema di cure primarie efficiente che non è soltanto il medico di medicina generale ma tutta la rete di servizi e di figure che operano sul territorio e che a loro volta si correlano con tutti gli altri settori e le altre branche dell'assistenza anche inclusa l'emergenza urgenza di cui si è dibattuto anche nell'ultimo periodo proprio per parlare di quella carenza di organico e di una scarsa appetibilità di questo settore per i giovani medici e che non incentiva i giovani medici proprio a lavorare in questi settori va migliorato il sistema di tutela per chi lavora in questi ambiti in queste branche va migliorato il sistema formativo a monte che si basi sulle competenze e soprattutto sulla possibilità di lavorare in team multiprofessionali la pandemia ci ha svelato che il modello di un medico di famiglia che opera da solo nel suo studio è un modello anacronistico e che invece nell'ambito del territorio tutte le figure professionali che vi operano devono essere in rete quindi indipendentemente da quello che sarà il setting strutturale che possono essere le case di comunità piuttosto che gli studi o gli ospedali di comunità è necessario ripensare il ruolo delle varie figure e incentivare un sistema di multidisciplinarietà comunque avete voglia di rimanere in Italia dico visto che sono personalmente ho fatto anche un viaggio in Germania sono andata a intervistare un medico che aveva lasciato Napoli per andare a Heidelberg comunque questo qualche anno fa ora va bene che c'è la pandemia quindi si viaggia un po' di meno però io mi auguro che si rimanga in Italia e che si lavori per la crescita del nostro paese sì anche perché altrimenti queste soluzioni che sono state adottate sarebbero vane sarebbe un investimento a vuoto quindi sia le maggiori opportunità di formazione per i giovani medici sia la stabilizzazione poi a valle possono essere delle soluzioni concrete solo se basate su un capitale umano che resti sul territorio e che quindi possa essere valorizzato in maniera adeguata ricordiamolo che i nostri medici sono i più invidiati a livello di percorso formativo in tutto il mondo sono come delle Ferrari che se noi le vendiamo all'estero appunto vendiamo delle Ferrari che abbiamo prodotto qua quindi sono forse veramente i migliori tra i migliori al mondo i più apprezzati in tutto il mondo quindi insomma teniamoci li stretti al presidente della Fonomceo volevo invece farlo riflettere su un fenomeno molto importante che è un po' la spia e la cartina di torno a solo delle performance sanitarie delle regioni e la spia di questa disparità nord-sud che è la mobilità sanitaria interregionale la campagna è tra le regioni più indebitate nei confronti di altre regioni per quanto riguarda i cittadini appunto che migrano vanno in altre regioni del centro e del nord per ricevere prestazioni sanitarie ora quando si parla quando si scrive quando noi giornalisti siamo soliti scrivere di migrazione sanitaria se ne parla sempre con un'accezione negativa perché? perché appunto è la spia di un disservizio locale di un servizio che manca oppure possono esserci lunghe liste d'attesa quindi questi sono i cosiddetti flussi patologici da correggere ma tante volte e questo ripeto cerco di portare anche la mia esperienza personale da giornalista quando intervisto quando ho dedicato un approfondimento proprio quest'estate sulla mobilità sanitaria intervistando tanti pazienti e ho raccolto le loro storie le loro testimonianze e chiedevo come mai sei andato a Milano a farti curare per farti curare di questo di questo tumore di altre altre prestazioni un'operazione all'anca oppure la tiroide a Pisa interventi di routine e allora mi dicevano no vabbè perché ho un mio parente che sta là e quindi mi fido di più e quindi si parte col pregiudizio ecco la questione del pregiudizio è anche un freno c'è un freno un ostacolo diciamo molto spesso la gente prende va senza neanche consultare il proprio medico di base che dovrebbe rappresentare invece il primo punto di riferimento colui che ti orienta rispetto all'offerta sanitaria locale quindi bypassando completamente le strutture del territorio è vero possono essere ciclicità o meno ma quello che a me ha stupito è che molti cittadini proprio per partito preso prendono e vanno al nord prendono e si trasferiscono senza neanche valorizzare o sapere quello di cui dispongono a livello territoriale e questo è un altro diciamo flusso negativo da correggere quanto meno come con l'empowerment del paziente cioè il paziente si deve innanzitutto rivolgere al proprio medico di base il medico di base deve guidarlo deve accompagnarlo deve prenderlo veramente in carico perché spiegare come funziona la sanità e credo che sia la prima cosa da fare perché se noi noi stessi siamo noi cittadini a non conoscere quello di cui disponiamo e come funziona la sanità beh allora questo sicuramente diciamo fa in modo che non abbiamo come dire impedisce e non ci permette di avere un utilizzo della sanità sostenibile più efficace e anche fare in modo che le nostre richieste siano più appropriate possibile quindi conoscere e sapere è determinante in questo senso detto ciò fatta questa ampia premessa chiedo appunto al dottor Anelli come possiamo il regionalismo sanitario anziché essere un modello quindi che alimenta disparità di trattamento come può essere sfruttato per migliorare l'organizzazione dell'assistente sanitaria nel mezzogiorno perché lei me ne ha parlato tu vabbè visto che ci siamo nel tu me ne hai parlato soprattutto al telefono subito appena ci siamo sentiti allora ho deciso di fare a te di rivolgere a te questa domanda e anche perché la legge di bilancio dell'anno scorso prevede anche un ripensamento un approfondimento di questi flussi di questi movimenti di pazienti per correggerli e capire come sì è una questione annosa dibattuta da tanto tempo nasce prevalentemente dal disinvestimento in sanità Gimbe lo dicevamo stamattina stima un taglio una perdita di 37 miliardi di euro per come finanziamento della sanità in questi 20 anni quindi che significa che ovviamente le regioni si devono arrangiare come si suol dire no e il vero tema che è sempre stato in gioco è la divisione del Fondo Sanitario Nazionale ora noi con la pandemia abbiamo avuto un'inversione di tendenza è iniziata con la finanziaria del 2019 quando Speranza e Conte annunciarono un'inversione investendo un miliardo promettendo di arrivare fino a più 10 miliardi io a quella conferenza stampa cero e poi siamo passati con gli 8 miliardi nel periodo di Covid investiti nel Fondo Sanitario Nazionale e poi con la programmazione triennale con la legge ora che va in Parlamento avremo un più 2 del 2022 più 2 ancora nel 23 e più 2 ancora quindi 6 miliardi in più entro il 2024 è una chiara inversione di tendenza però se questo è vero cioè nel senso che per fare una buona sanità servono più soldi perché come dire cioè il ragionamento che faceva Silvestro prima ma anche gli altri è legato al fatto che sul territorio c'è un impoverimento lo diceva pure la collega abbiamo una visione romantica del medico di famiglia un medico che fa riferimento alla figura del medico condotto dell'inizio del novecento quando con la borsetta come dire abbiamo sempre immaginato con la borsetta che va a casa del paziente nel frattempo abbiamo 30 professioni sanitarie organizzate in ordini professionali e buona parte di queste professioni non sono presenti sul territorio io come uso fare sempre questo esempio immaginiamo un padiglione ospedaliero dove ci siano solo i medici lavorano solo esclusivamente senza infermieri senza nessuno voi lo ritenete possibile io credo che sia veramente una sciocchezza e questo avviene nel territorio perché i medici famiglia continuano in larga parte a lavorare da soli hanno bisogno sicuramente di infermieri però c'è bisogno anche di soldi per pagare chi? gli stipendi cioè chi paga gli stipendi allora noi immaginiamo di mettere gli infermieri innanzitutto vediamo se ci sono se non ci sono tanti infermieri disponibili abbiamo la possibilità di mettere gli os di mettere gli psicologi altre professioni sanitarie ma bisogna pur pagarle quindi il tema reale torna ad essere ed è centrale il tema del finanziamento e poi in questi 20 anni è successa un'altra questione e cioè che nella divisione del fondo sanitario nazionale per una serie di ragioni forse anche giuste per l'amor del cielo cioè le regioni del nord chiedevano più soldi perché avevano più pazienti anziani che quindi ritenevano di spendere più risorse per assistere persone che avevano più patologie però se tu dai a una regione come l'Emilia 300 400 milioni in più rispetto alla Campania in 20 anni in 10 anni sono 4 miliardi in 20 anni sono 8 miliardi in più io non so che cosa avrebbe come dire fatto il governatore De Luca con 8 miliardi in più e poi è chiaro che noi abbiamo i centri di eccellenza prevalentemente al nord è scontato perché con quei soldi si sono finanziati i centri di eccellenza e nello stesso tempo che è successo vengo alla questione della mobilità è successo che i cittadini provano ad andare lì dove ci sono i centri di eccellenza o lo dicono o non lo dicono ma alla fine è così perché il centro di eccellenza diventa attrattivo e quindi a questo punto le regioni sono ancora di più le regioni del meridione penalizzate perché devono pagare le prestazioni in mobilità e li pagano a prezzo pieno quindi mi sembra che il sistema non funzioni sicuramente non funzioni e non funziona al punto tale che anche gli indicatori di salute sono diversi perché come dire tutta questa cosa sarebbe diciamo un problema dei tecnici se non incidesse invece sulla pelle della gente perché se l'aspettativa di vita qui in campagna è la più bassa in Italia un motivo ci sarà e non è certo come dire e quindi avrebbe bisogno di più risorse di più personale quindi il tema della come dire di essere uguali davanti alla salute è un tema fondamentale in questo momento e allora se abbiamo invertito la tendenza di investimento dal disinvestimento siamo passati all'investimento oggi è il tempo anche di invertire l'altra tendenza non può essere che l'uguaglianza fra le regioni è la spesa storica in parte corretta dal Parlamento ma fino a poco tempo fa in parte governatore in parte ma fino a poco tempo fa era così quello che era uguale in Italia era quando hai speso tu al sud quando ho speso io al nord quella è l'uguaglianza è come quando andiamo ad aumentare come quando abbiamo provato a correggere il fondo per l'assunzione del personale l'abbiamo fatto in termini percentuali cioè l'abbiamo aumentato fino al 15% il fondo del 2004 meno l'1,4% che era il fondo per l'assunzione del personale è stato aumentato del 15% ma se io in Emilia Romagna ho 50.000 persone e in Campania ho 30.000 il 15% mi darà più dipendenti in Emilia e meno dipendenti in Emilia Romagna pur avendo il 15% in più uguale a tutte e due le parti quindi le disuguaglianze rimangono ancora evidenti quindi oggi è il tempo di cambiare di cambiare sistema e poiché è inimmaginabile come dire prendere un centro di eccellenza dal nord e portarlo al sud a parte la modifica del fondo sanitario nazionale e io invito i governatori del sud a fare la loro parte fino in fondo su questa questione che è una nostra questione capisco che è complicato per l'amor del cielo non è facile però bisogna anche provare qui trovate nella professione medica come dire una sponda notevole sul tema dell'uguaglianza e anche sul tema della ponderazione del fondo a favore delle regioni dove la povertà dove una serie di indicatori sono tali da dover essere corretti per essere uguali perché anche questo ricordo che l'articolo che ha modificato e ha portato al regionalismo nella Costituzione è l'articolo 117 l'articolo che invece determina l'obbligo della solidarietà è l'articolo 2 115 articoli prima dopo il lavoro la Costituzione mette il dovere di solidarietà tra le regioni un dovere di solidarietà che esegue l'articolo 3 della Costituzione che è quello dell'uguaglianza perché tutti i cittadini siano uguali davanti alla Repubblica uguali allora e finisco io credo che ci possano essere anche meccanismi nuovi di gestione che possono come dire provare a prendere esperienza da quello che abbiamo già realizzato all'interno delle regioni noi all'interno di molte regioni abbiamo creato le reti le reti oncologiche la rete delle malattie rare e così via beh perché non si può fare una rete sovra regionale che consente a quelle eccellenze di diventare punti di riferimento nazionali all'interno di un gruppo di professionisti che imparano e condividono insieme esperienze di lavoro e consentono ai cittadini di non spostarsi da una regione all'altra ma di spostare i professionisti il cosiddetto modello abenspok non è proprio il modello abenspok è una rete sovra regionale che consente ecco di prendiamo tumori importanti neuroblastomi sono tumori rari dove l'esperienza è legata a pochi professionisti in Italia ma se si facesse una rete fra neurochirurghi delle varie regioni i vari neurochirurghi imparerebbero le tecniche ma allo stesso tempo ci sarebbe anche la possibilità di intervenire nella regione senza far spostare il cittadino io capisco che questo può significare una limitazione oggi del potere organizzativo delle regioni ma credo che forse oggi uno sforzo maggiore dobbiamo farlo e finisco soltanto con un'altra provocazione che è quello del ministero della salute io credo che un ministero della salute che non abbia la funzione di guardare e di andare a intervenire colmando le disuguaglianze non fa bene il proprio lavoro e credo che questo lo dovremmo fare per legge cioè bisogna dare più potere al ministro della salute al ministero della salute perché ci deve essere qualcuno oggi in Italia che dica in maniera chiara che questa disuguaglianza va colmata e faccia insieme con il governatore un piano di intervento economico per colmare le disuguaglianze se non ne usciamo più non ne usciamo più noi abbiamo chiesto un piano Marshall per correggere le disuguaglianze perché abbiamo bisogno di questo cioè non possiamo lasciare regioni come la Calabria dove i colleghi provano a fare una medicina eroica perché lavorare in Calabria con poco personale e pochi strumenti è veramente complicato scusa no no figurati anzi grazie e diciamo che il regionalismo smette il regionalismo si diventa insomma un'opportunità e un elemento non più di allontanamento e di disparità ma di eguaglianza se appunto si sviluppa il modello della sanità in rete di centri d'eccellenza e centri periferici connessi quindi tutti i nodi della rete connessi capillarmente diffusi in modo tale che nessuno rimane indietro rimane abbandonato o è costretto a fare viaggi appunto della speranza l'ultima cosa che chiedo al dottor Scotti e poi cedo la parola al governatore De Luca per la conclusione di questo momento di confronto volevo ricordare appunto la la rete oncologica inaugurata in campagna nel 2019 tra le prime poche reti oncologiche così insomma strutturate perché è rappresenta è rivoluzionaria rappresenta una grande novità se ce la puoi spiegare come funziona e perché appunto ci sarebbero in sala persone più autorevoli di me a spiegarla come attiva no però voi coinvolge anche voi i medici di medicina generale sono testimone del fatto che togliti la nel momento in cui è stata pensata il primo coinvolgimento a cui ha pensato il direttore generale del pascal è stata la medicina generale cioè io ho seguito questa rete nella sua determinazione nelle sue formalizzazioni e proposte alla medicina generale dall'inizio il che è uno di quei segnali di attenzione che si richiede a questo processo di evoluzione del PNRR evitare le emorragie dei pazienti nelle altre regioni e questa è una buona soluzione il passo successivo è stata adesso l'integrazione della piattaforma all'interno di quella piattaforma di cui parlavo io che è quella Sinfonia la mia aspettativa è io continuo a dirlo in tutta Italia vorrei che fosse detto di più in questa regione perché io mi sento orgogliosamente campano e napoletano sinceramente noi siamo l'unica regione che con la piattaforma Sinfonia ha creato una cooperazione applicativa con i medici di famiglia cioè siamo l'unica regione ti faccio un esempio pratico di questo momento io leggo i pazienti vaccinati che al quinto mese devono fare la terza dose non devo andarlo a ricercare ho sul mio programma il segnale di alerte che quel paziente è un paziente da chiamare perché deve fare la terza dose quella è la base su cui si può costruire un futuro assolutamente radioso soprattutto rispetto alla rete oncologica la rete oncologica che è stata creata e la piattaforma di dialogo è fondamentale in questo momento purtroppo il covid e altre situazioni ci hanno distratto ma credo e lo dico autoaccusandomi davanti ad Attilio credo che ci voglia una grande presa di responsabilità da parte dei medici di famiglia ad entrare in questo sistema perché ci permette direttamente di dialogare con lo specialista oncologo che prende in carico il nostro paziente il paziente ha un percorso facilitato io posso seguire su quella piattaforma quello che viene fatto dal mio paziente e aiuto l'oncologo su quello che è sempre stato un problema perché per il medico di famiglia il paziente oncologico era un paziente in cui io perdevo il rapporto di fiducia perché chiaramente giustamente per la visione proiettata della patologia l'oncologo diventava per lui giustamente Dio sceso in terra per capirci e chiaramente perdevo io ruolo oggi attraverso questo tipo di dialogo che deve portare tutti i medici ad avere dati ma la fase fondamentale diventerà la cooperazione applicativa con i nostri gestionali significa che io quando apro il mio gestionale su quel paziente ho di fronte tutto quel sistema e questo mi permette di avere di dare quelle risposte solo un piccolo appunto sul discorso delle risorse che vorrei segnalare così ascolterò con piacere una risposta del presidente De Luca noi siamo una regione in cui ancora possiamo giocarci una partita sulle risorse umane nel senso che abbiamo ancora una riserva di medici significativa da poter essere utilizzata siamo attenti a dare eccessi di risorse alle regioni del nord che invece non ce l'hanno perché noi oggi parliamo dei mille medici che andranno fuori dall'Italia ma rischiamo nel prossimo periodo dei diecimila medici che se ne vadano dal sud per essere meglio pagati al nord perché questa è la realtà che crea quella disuguaglianza economica perché ci anche rispetto a quelle che sono le chiacchiere sulle autonomie regionali soprattutto dei contratti fatemi ricordare che sono un sindacalista ma l'autonomia contrattuale regionale permetterà alle regioni più ricche di offrire più soldi a discapito delle regioni più povere e chiaramente il professionista rischierà di essere soprattutto quello giovane che è già abituato a vivere un mondo globale a essere più attirato da questo tipo di sirene questo è un pericolo reale che sta passando un po' troppo sotto silenzio a mio avviso insieme a qualche azione di privatizzazione strisciante del servizio sanitario nazionale da parte di qualche regione e chiaramente l'aggressività del privato sulle risorse purtroppo può essere pericolosa in questo senso e scusate se ho rubato qualche minuto presidente del buca io la inviterei a raggiungerci sul palco sei d'accordo sì grazie 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 per l'invito un saluto cordiale ai relatori agli ospiti che sono qui nella nostra città siete nella città nella quale è nata la medicina in occidente abbiamo avuto qui la prima scuola di medicina dell'occidente a volte sono cose note più in Germania che in Italia per la verità quindi è un motivo di onore per noi ospitarvi qui qualche riflessione in premessa la prima io credo che in questo momento dovremmo fare una battaglia comune per affermare la cultura scientifica siamo di fronte ad una ondata di sottocultura antiscientifica che fa paura lo dico ai medici mi è capitato di vedere ieri una trasmissione televisiva uno di questi pollai televisivi che sarebbe bene cancellare e si intervistava sul covid un docente universitario che insegna filosofia morale che è riuscito a dire in 30 secondi tante di quelle bestialità che io ho immaginato che questo fosse un analfabeta di ritorno altro che un docente di filosofia morale ma cose inimmaginabili ovviamente come sempre quando ha finito di parlare la conduttrice televisiva ha detto però il conduttore anzi in quel caso vi devo dire però che il professore si è vaccinato come sempre si vaccinano e vanno a parlare contro le vaccinazioni questo in un paese serio dovrebbe essere intollerabile il principio di coerenza deve essere affermato e visto che parliamo di medicina e di scienza dovremmo spiegare anche a questi signori che stanno pilotando una campagna irresponsabile antiscientifica che dovremmo mantenerci perlomeno nel rispetto del principio di non contraddizione gli avrei detto questo al filosofo l'essere è diceva Parmenide il non essere non è almeno questo ma siamo in un paese nel quale ormai si può dire contemporaneamente questo oggetto è bianco però è nero allora io vi chiedo di fare uno sforzo per l'affermazione di una cultura scientifica altrimenti noi ci faremo male c'è una variante non sappiamo quanto pericolosa dal punto di vista patogenico ma dal punto di vista dell'aggressività del contagio è estremamente pericolosa abbiamo bisogno di completare la campagna di vaccinazione abbiamo bisogno di affrontare con il vostro aiuto che sarà decisivo il tema della vaccinazione per i bambini da 5 a 11 anni che per il clima di confusione che si è creato in Italia è diventato un tema difficile da affrontare perché le famiglie hanno paura le mamme hanno paura e sarà decisivo il ruolo dei medici di famiglia dei pediatri di famiglia per persuadere le persone a vaccinarsi altrimenti noi non ce la faremo come istituzioni sanitarie a completare la campagna di vaccinazione una seconda premessa riguarda il ruolo delle regioni in relazione allo Stato e al Ministero della Salute si è diffusa nei mesi che abbiamo le spalle in questo anno e mezzo un luogo comune le regioni vanno in ordine sparso allora voglio dirvi in maniera estremamente chiara brutalmente chiara il 99% del lavoro fatto per il covid e per la sanità lo stanno facendo le regioni non altri se dipendesse dallo Stato centrale l'Italia sarebbe al disastro sia perché in questi anni abbiamo sostanzialmente distrutto il Ministero della Salute sia perché dal punto di vista concreto il 99% del lavoro lo stiamo facendo noi cioè lo stanno facendo i medici dei servizi sanitari e le regioni noi abbiamo goduto per 3-4 mesi del silenzio del commissario al covid quindi per alcuni mesi è andato in giro per l'Italia a fare non si sa bene che cosa il ruolo del commissario di governo al covid è quello di mandare ogni due settimane una circolare che si potrebbe tranquillamente risparmiare vi invitiamo a fare 400.000 somministrazioni al giorno e c'è bisogno che ci vedo anche il commissario lo sappiamo già stia tranquillo faccia quello che deve fare la distribuzione dei vaccini io considero un atto da sceneggiata napoletana avere un commissario destinato a distribuire i vaccini cosa che può fare tranquillamente la protezione civile tranquillamente abbiamo avuto alcuni episodi che testimoniano la verità di quello che vado dicendo lo stato centrale avrebbe dovuto fare in relazione al covid due o tre cose e basta e non le ha fatte la prima cosa a lavorare per avere la produzione dei vaccini in Italia questo sarebbe il compito dello stato centrale ad oggi io non so che diavolo stiamo facendo avremmo potuto lavorare anche su licenza delle grandi compagnie produttrici mondiali avremmo potuto avere la produzione in Italia dei vaccini nel giro i 4 o 5 mesi non ci siamo riusciti oggi l'Italia non produce i vaccini ma credo che questo dovrebbe essere un compito strategico dello stato italiano avere la produzione nazionale di vaccini perché questo ovviamente dà più tranquillità e più certezze dal punto di vista del valore scientifico la seconda cosa che avrebbe dovuto fare lo stato centrale e i commissari era la distribuzione corretta dei vaccini non lo hanno fatto e ancora una volta c'è stato il mercato nero dei vaccini in Italia la terza cosa poi vi dirò qualcosa in relazione al rapporto nord-sud anche sulla distribuzione dei vaccini la terza cosa che devo fare al stato centrale è dare all'Italia ai cittadini italiani una informazione semplificata e univoca è stato il caos non so se ricordate la informazione che è stata data in relazione ad AstraZeneca si può fare si può fare il secondo vaccino con il vaccino omologo con l'eterologa a 50 anni a 60 anni a 70 anni uno sì uno no il caos lo stato centrale quello è stato il momento nel quale si è rotto il rapporto di fiducia fra cittadini e stato quello è stato il momento di blocco della campagna di vaccinazione perché lì lo stato ha perduto ogni credibilità siamo arrivati ieri a cose da circo equestre non da paese civile due ministeri della pubblica istruzione della salute dicono che bisogna chiudere una scuola con un ragazzo positivo dopo 24 ore cambiano registro fanno una sceneggiata fanno finta che su richiesta del commissario cioè il commissario al covid che fa le prescrizioni a due ministeri al governo italiano ma questo è un circo equestre non è un paese se abbiate pazienza non è un paese abbiamo dovuto ricambiare le indicazioni che abbiamo dato ai dirigenti scolastici contro ordine non si chiudono più le scuole con un positivo avrebbe dovuto fare il governo centrale un'ultima cosa che non ha fatto un grande piano nazionale per il controllo delle decisioni sul covid cioè avremmo dovuto semplicemente impegnare 30.000 uomini carabinieri polizia guardia di finanza polizie municipali per fare in modo che quando si fa un'ordinanza in Italia e si stabilisce che per entrare in un ristorante deve avere il green pass questo venga controllato per fare in modo che se come in Campania è rimasta sempre obbligatoria l'ordinanza che obbligava ad usare la mascherina anche all'esterno qualcuno controllasse non ha controllato un accidente di niente nessuno è evidente che in queste condizioni diventa davvero complicato fare la battaglia contro il covid allora vorrei che acquisissimo questo fatto anche nel dibattito pubblico lo dico ai giornalisti ma lo dico anche agli autorevoli di esponenti di associazioni mediche cominciamo a dire che quando si parla di regioni grazie alle regioni si è fatto il 99% del lavoro sul covid mi sapete dire che diavolo altro ha fatto il commissario quello di oggi e quello di prima oltre i banchi a rotelle qual è concretamente l'attività che fa quella di mandare ogni tanto una circola e noi che iniziamo a lavorare allora chiarite queste premesse veniamo al rapporto nord-sud al riparto dei fondi nazionali 10-11 anni fa è stato stabilito il criterio del riparto del fondo sanitario nazionale che prevedeva il riparto sulla base di tre criteri da valutare l'anzianità della popolazione residente regione per regione il tasso di mortalità aspettativa di vita e la deprivazione sociale cioè il livello di povertà di una regione un conto è vivere a 70 anni a Varese o a Mantua un altro conto è vivere a 70 anni alla terra dei fuochi se ci arrivi è evidente che questo determina un problema bene nel corso di questo decennio i tre criteri che dovevano orientare il riparto si sono ridotti a un criterio l'anzianità della popolazione residente che dal mio punto di vista è un'idiozia doppia credo sia un'idiozia anche dal punto di vista come dire epidemiologico perché magari 20 anni fa l'anzianità della popolazione determinava un incremento delle cronicità questo c'è sicuramente 20 anni fa ma vi posso garantire che se ragioniamo oggi sulla popolazione giovanile e cominciamo a verificare quali sono le patologie che investono le giovani generazioni probabilmente cominciamo a riequilibrare anche questo criterio penso ai disturbi alimentari che toccano una fascia ampia di popolazione giovani soprattutto di ragazze altro che la criticità penso alle tossicodipendenze penso alla ludopatia penso alla dipendenza rispetto alle nuove tecnologie informatiche cioè già quel criterio oggi a me pare ovviamente non ho la vostra competenza specifica ma a me pare una bestialità perché credo che oggi patologie che riguardano l'area giovanile sono di molto cresciute bene nel corso di questi dieci anni siamo andati avanti su quel solo criterio che ha determinato una spesa storica drammaticamente squilibrata la regione campania viene derubata dallo stato italiano ogni anno di 300 milioni di euro la regione campania che è la regione con la più alta densità abitativa d'italia ed europa riceve ogni anno 60 euro pro capite in meno rispetto a un cittadino dell'emilia romagna 40 euro pro capite in meno rispetto a un cittadino del veneto della lombardia 30 euro in meno rispetto lazio siamo arrivati al punto che la regione ha deciso di fare ricorso alla corte costituzionale perché riteniamo che questo sistema sia una violazione intollerabile della costituzione e dell'uguale diritto dei cittadini alla salute ora a me piace parlare un linguaggio di verità noi al sud abbiamo grandi responsabilità le porcherie che abbiamo fatto nella sanità nel sud negli anni 80 90 sono inimmaginabili e abbiamo pagato dei prezzi bene siamo stati commissariati bene la campagna è stata commissariata 9 miliardi di euro di debiti bene abbiamo pagato un prezzo alto per nostra responsabilità dopodiché però dopo aver fatto il calvario di questo decennio e dopo che negli ultimi due anni siamo passati da 106 punti della Griglia Lea a 172 cioè dopo che abbiamo risanato i bilanci raggiunto i target necessari della Griglia Lea per uscire dal commissariamento e così via beh a questo punto noi dobbiamo adottare un altro criterio le stesse risorse per ogni cittadino italiano punto e basta dal Piemonte della Sicilia o no o no invece continuiamo a fare i furbi perché c'è un blocco di potere Emilia Veneto Lombardia tanto per essere chiari che non si riesce a scalfire e abbiamo una classe dirigente improbabile io racconto quando parliamo il rapporto Nord-Sud quello che è accaduto in Germania perché noi abbiamo avuto forze politiche che assumevano il meridionalismo come proprio carattere fondante di destra di centro di sinistra da Sturzo a De Gasperi a Gramsci alle componenti socialiste e laiche nel corso dei decenni questa ispirazione ideale unitaria solidaristica si è persa in Germania quando è caduto il muro in Berlino 89 hanno deciso i gruppi dirigenti politici hanno deciso che era un obiettivo irrinunciabile sul piano ideale e storico politico l'unificazione della Germania in 20 anni hanno rionificato il paese avendo fatto scelte drammaticamente difficili avendo trasferito la moneta forte occidentale il marco nel paese orientale avendo fatto cose inimmaginabili quella è una classe dirigente quella è una classe dirigente che ha valori che ha idealità in Italia in Italia il decennio che abbiamo alle spalle è il decennio della ciucciaria al potere diciamola così è il decennio nel quale hanno potuto dire che se siete dei medici o degli specialisti siete alla pari con quelli che fanno i parcheggiatori abusivi sotto la regione Campania uno vale uno cose da pazzi cose 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 inimmaginabili quello che abbiamo vissuto in questi anni nel nostro paese allora noi paghiamo ogni anno 300 milioni di euro allo Stato al blocco di potere privilegiato ripeto abbiamo deciso di fare il corso alla Corte Costituzionale quando abbiamo fatto l'ultimo riparto in conferenza nella conferenza delle regioni dovevamo dare il parere abbiamo tenuto bloccata la situazione per due mesi sapete che il parere si può dare all'unanimità avevo detto blocchiamo il parere come regione Campania se non diamo il parere come conferenza delle regioni decide poi il ministero ho chiesto al ministro della salute fammi capire che margini pensi di avere per fare un'operazione di riequilibrio risposta nessuno Dio Dio ti benedica ecco da voi che ho detto vabbè diamo il parere poi ce la vedremo con la Corte Costituzionale che dobbiamo dare mi ha detto guarda nell'ambito del governo abbiamo una presenza anche nei ministeri il 90% sono Lombardia centro-nord posso pure porre il problema ma io lo avrei posto e avrei fatto la guerra però ognuno ha il carattere che ha allora l'attuale riparto muove di nuovo dalla spesa storica e riproduce esattamente quel divario che vi ho detto nelle risorse 60 euro pro capita in meno di un cittadino campano rispetto a un cittadino emiliano siamo come regione campania l'ultima regione d'Italia per i trasferimenti del fondo sanitario nazionale è una vergogna io fossi membro del governo nazionale mi vergognerei di questa situazione da italiano ma se ne infischiano parlavo prima della distribuzione dei vaccini quando abbiamo cominciato a gennaio dello scorso anno a distribuzione dei vaccini le regioni del nord ci hanno detto noi abbiamo una percentuale più alta di persone anziane dovremmo avere una distribuzione prioritaria per le regioni del nord la campania in 30 secondi ha detto siamo d'accordo diamo prima i vaccini alle regioni del nord perché ci sono oltre 80 anni ma abbiamo aggiunto diamo prima i vaccini ma con l'intesa che questo a gennaio con l'intesa che poi entro aprile noi riequilibriamo la distribuzione dei vaccini sulla base della popolazione siamo arrivati ad aprile e la situazione era questa la regione campania aveva 200.000 dosi di vaccino in meno rispetto a Lazio ancora una volta siamo stati fino a luglio l'ultima regione d'Italia per la distribuzione dei vaccini una vergogna doppia perché siamo la regione a più alta densità abitativa d'Italia ed Europa e avrebbe dovuto essere lo Stato italiano a tutelare i cittadini campani abbiamo dovuto fare la guerra quando si è insediato il generale commissario e pippe varie aveva dato un bel impegno una testa un vaccino bene abbiamo espresso il nostro consenso quando siamo arrivati ad aprile ho detto caro commissario l'accordo era che ad aprile si faceva il riequilibrio non c'è stato niente da fare e quando a luglio abbiamo cominciato la vaccinazione della popolazione studentesca in questo caso la regione campania è quella che ha più giovani quindi avremmo dovuto avere il meccanismo inverso più vaccini rispetto al nord non c'è stato niente da fare siamo arrivati a livelli di farabuttismo inimmaginabili ho parlato di mercato nero nella distribuzione dei vaccini pensate che qualcuno abbia fatto una piega se qualcuno dicesse a me stai facendo il mercato nero dei farmaci o di altro avrei qualche imbarazzo c'è stato niente da fare come se niente fosse torniamo al riparto delle risorse ho detto al ministro della salute bene quello è il riparto del fondo sanitario nazionale beh ci state dicendo che vi sono risorse aggiuntive previste dal PNR bene siccome sono risorse aggiuntive approfittiamo di queste risorse aggiuntive per fare il riequilibrio nel trasferimento di risorse sanitarie o no questo è il momento per fare il riequilibrio non ci credereste ma anche le risorse aggiuntive vengono distribuite sulla base dei criteri storici non ci sono parole per descrivere il livello di farabuttismo con cui dobbiamo fare i conti in Italia ancora si decidono le risorse per le case di comunità abbiamo regioni nelle quali le case di comunità per metà ci sono già altre regioni come la nostra in cui non c'è niente abbiamo un ritardo storico della medicina territoriale è un'eredità che abbiamo avuto rimbocchiamoci le maniche lavoriamo ma il dato di fatto è questo ma si può immaginare che anche per le case di comunità le risorse vengano distribuite sulla base della spesa storica allora dovremmo davvero fare un'alleanza per cercare di imporre criteri di civiltà lo dico a voi in quanto medici cioè in quanto professionisti che hanno come propria motivazione ideale ed etico professionale il rispetto dell'uguale diritto alla salute di ogni cittadino di questo paese e soprattutto della povera gente di questo paese vediamo dove arriviamo ma è una battaglia che dovremmo pur fare una volta pur fare una volta noi ce la stiamo mettendo tutta ma in una condizione totale isolamento vengo all'oggi e finisco ora è chiaro che noi siamo chiamati a ridisegnare complessivamente il modello sanitario del nostro paese devo dire che anche qui in Campania abbiamo straordinari punti di eccellenza c'è il tortoriello qui abbiamo il pascale abbiamo come dire nostri professionisti che sono fra i vertici mondiali per le specializzazioni oncologiche ma ovviamente ma ovviamente paghiamo quel retroterra e paghiamo anche un retroterra sottoculturale che spinge obiettivamente ad andare verso il nord paghiamo anche come dire un'economia parassitaria legata ai viaggi della speranza ci sono agenzie della Lombardia che vendono i pacchetti completi la cura oncologica la residenza nell'albergo la logistica il trasporto come se fosse un pacchetto turistico in questo momento noi teniamo in piedi la sanità della Lombardia o di altre regioni del nord con i soldi della mobilità passiva ora è evidente che se noi abbiamo una riduzione di personale drammatica faremo fatica a ridurre le liste di attesa e questo diventa un incentivo obiettivo ad andare da altre parti per non perdere tempo ora noi dovremmo lavorare molto in relazione soprattutto alla ipotesi di casa e comunità con i medici di famiglia altrimenti anche questa idea rischia di essere fallimentare e dobbiamo riequilibrare almeno per quello che riguarda la regione Campania un'anomalia che ci trasciniamo da decenni la specialistica ambulatoriale pubblica è poca cosa siamo a livelli imbarazzanti e non è tollerabile non è tollerabile ora anche qui c'è una ragione storica a volte anche gli specialisti della medicina ambulatoriale sono stati utilizzati in generale per altre responsabilità mediche perché non c'era personale e questo ha determinato uno squilibrio generale ma ogni volta che andiamo a Roma la cosa che ci rinfacciano male la specialistica ambulatoriale pubblica in Campania è a zero siamo a 10-15% lo so bene che è una grande anomalia ma qui dovremmo lavorare per riequilibrare e per quello che mi riguarda l'occasione delle case di comunità è l'occasione per riequilibrare questo e per avere uno slancio straordinario per gli screening che hanno avuto in questi mesi un abbassamento drammatico si è quasi dimezzata la percentuale di screening oncologici che facciamo in Campania è un dato drammatico questo dovremmo dire a questa banda di imbecilli Novax che vanno girando per l'Italia a questa banda di idioti che esercita una forma di violenza che non viene denunciata perché il danno prodotto ai Novax non è solo il fatto che rovini l'economia nei centri storici non è solo il fatto che diffondi il contagio ma quando mi ingolfi i posti letto negli ospedali tu hai privato del diritto alla salute i pazienti oncologici cardiologici diabetici stai facendo morire la gente per la tua imbecillità questo avremmo dovuto dire ma non hanno il coraggio di parlare di argomenti in Italia la paura di avere un articolo di giornale contro un servizio televisivo avete notato come si sta muovendo il mondo e l'informazione è una cosa vergognosa sempre sulla linea dell'uno vale uno io seguivo i servizi che facevano a Trieste a Trieste stavano rovinando la città di Trieste e il Friuli abbiamo visto i risultati c'erano servizi televisivi diamo la parola ad uno e adesso diamo la parola all'altra parte è come se fossero sullo stesso piano quello che fa il portuale quel povero Cristo che ho visto guidare i Novax e tutta la comunità scientifica che era dall'altra parte livelli vergognosi di irresponsabilità giusto per tenere vivo il dibattito sul covid cioè a costo di danneggiare l'Italia pur di fare un po' di ascolti hanno alimentato televisioni pubbliche e private il conflitto lasciamo perdere allora dobbiamo fare i conti con questo dobbiamo fare i conti con un altro limite che sta diventando drammatico la carenza di specialisti nella medicina di urgenza emergenza facciamo concorsi non si presentano i giovani medici e in modo particolare per le aree disagiate questo ci capita per esempio per Sorrento l'ospedale di Sorrento Costiera Sorrentina o per le isole o per le aree interne della regione non vanno abbiamo fatto tre volte i concorsi qui chiederei anche voi di lavorare insieme per definire una proposta io non so se dobbiamo dare un incentivo economico io non credo che dobbiamo ideologizzare se dobbiamo utilizzare meccanismi di rotazione io per esempio capisco che chi va a lavorare sulle isole e beh un problema in più ce l'ha solo per lo spostamento solo nel periodo invernale allora ragioniamo senza ideologismi con molto buon senso o inventiamo meccanismi di rotazione obbligatori o dobbiamo dare gli incentivi economici ma sicuramente non possiamo avere situazioni di disagio nelle quali non riusciamo a garantire l'apertura di un pronto soccorso non è possibile poi dobbiamo fare i conti con un problema che diventerà drammatico Silvestro Scotti ci ha detto che in Campania reggiamo ancora in qualche modo avremo un po' di personale in più però fra gente che se ne va in pensione e quest'altra bestialità prodotta da Salvini la quota 100 altra scienziateria abbiamo avuto tanti primari che magari sul loro e la pensione hanno anticipato il pensionamento e sono andati a lavorare in strutture private era inevitabile mica quota 100 è servita a quelli che lavoravano nelle fonderie sulle impalcature e i cantini no se ne sono andati quelli che lavoravano nel pubblico è incredibile e questa cosa è stata presentata come una misura di tutela del lavoro in maccia sua allora dovremmo fare i conti con queste queste emergenze che abbiamo che rischiano di rendere complicato il programma di riorganizzazione complessivo della sanità finisco con una considerazione noi stiamo lavorando ad una piattaforma digitale unitaria l'abbiamo già completata la sinfonia della sanità campana questo ci serve ad avere controlli rigorosi dentro gli ospedali se dobbiamo essere seri dobbiamo essere seri tutti quanti a cominciare alla trasmissione dei dati che dobbiamo andare ai ministeri a volte c'è un'attività che pure facciamo ma che non viene comunicata a Roma e ci penalizza ma dobbiamo anche poi spingere tutti i medici di famiglia a fare prescrizioni appropriate non è che possiamo prescrivere tutto quello che ci passa per la testa per fare un piacere al cliente eh no quello ci servirà ad avere uno strumento di controllo oggettivo perché dobbiamo 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 trovare una modalità di lavoro ispirata alla serietà e al rigore anche perché se vogliamo essere credibili quando facciamo le battaglie contro i rapinatori del nord dobbiamo essere noi per primi in grado di accettare la sfida dell'efficienza e del rigore avremo altri problemi che riguardano i punti nascita abbiamo ancora di fide perché nei punti nascita non tranquilli sotto i 400 parti l'anno abbiamo movimenti territoriali esponenti politici che a Roma dicono una cosa poi vanno nel territorio di appartenenza e cominciano a dare vita ai comitati sotto comitati contro comitati anche a costo di far morire le partorienti abbiamo altre anomalie noi alle quali stiamo lavorando abbiamo ancora strutture private nelle quali i parti cesari per le primipere vanno oltre il 70 80% abbiamo deciso di togliere i convenzionamenti perché non è più tollerabile perché se dobbiamo rientrare pienamente la grigialea non possiamo accettare più queste porcherie così si chiamano allora noi ce la metteremo tutta mi auguro ovviamente che l'occasione del PNR sia un'occasione per fare innanzitutto un'operazione verità nel nostro paese sul rapporto nord-sud per quello che riguarda la sanità ma per quello che riguarda in generale l'equilibrio delle risorse e l'uso delle risorse in Italia perché quello che vale per la sanità vale per le università vale per i servizi sociali vale per le infrastrutture cioè il divario la sperequazione che abbiamo fa nord-sud andrebbe come dire esplicitata noi non chiediamo nulla chiediamo solo un'operazione verità perché ogni cittadino di questo paese possa avere gli stessi diritti e anche gli stessi doveri dovremo risentirci ovviamente avremo bisogno del vostro aiuto e della vostra competenza sul campo qualcuno di voi lo ha detto perché un conto sono i disegni di riforma che sono sulla carta un altro conto poi è l'esperienza concreta che facciamo anche noi quando abbiamo affrontato il problema le liste di attesa pensavamo di fare nel giro di sei mesi abbiamo visto che la cosa è complicata non è non è non è banale abbiamo bisogno davvero del vostro aiuto in termini di professionalità ma anche in termini di idee nella riorganizzazione del sistema non c'è niente da fare o parliamo con quelli che lavorano sul campo ma se ci affidiamo a quelli che stanno a Roma sprofondati in quelle poltrone di pelle consumata dove sono passati secoli e non credo che andremo molto avanti nel processo di riorganizzazione e riforma del sistema sanitario in ogni caso auguro a tutti quanti voi un buon lavoro siete in frontiera oggi siete in trincea io so bene che tanti i nostri medici professionisti ci hanno consentito di reggere in Campania ma sono allo stremo anche perché lavorare con 10-15 mila dipendenti in meno non è non è facile non è semplice e nonostante tutto stiamo reggendo se Dio vuole stiamo reggendo dobbiamo continuare ad avere il pugno di ferro perché se perdiamo il controllo qui sul territorio andiamo alle catombe per questo a volte siamo ecco un po' più più rigorosi eccetera eccetera allora mi auguro che il nostro rapporto possa essere io ascoltavo anche questa disponibilità rispetto alle ore disponibili per i medici che sono gli ospedali anche qui ma se le risorse vengono programmate senza tener conto dei rinnovi contrattuali che si mangiano l'80% degli incrementi buonanotte siamo sempre allo stesso punto allora mi auguro davvero di poter contare sulla vostra professionalità sulla vostra collaborazione oltre che ma questo avete già dimostrato di farlo su un impegno straordinario in occasione del covid che va ben al di là di un impegno di ordinaria amministrazione avete dato l'anima e qui ma posso dire in tutta Italia ci avete consentito di evitare tragedie di ben altre proporzioni vi ringrazio e un saluto cordiale a voi e alle vostre famiglie grazie 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 professor Livio Presutti vi prego di prendere posto grazie 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 il professor Sergio Motta il professor il professor grazie che sono i componenti della tavola rotonda bellissima ma sei fantastico eh sì ma sei fantastico non ti avevo riconosciuto vabbè questa ormai è una cosa signori sta per prendere inizio la seconda tavola rotonda vi prego di prendere posto grazie allora siamo pronti per cominciare la tavola rotonda riscopriamo la foniatria e la fonochirurgia ci sarà un collegamento estero con la Finlandia siamo pronti per cominciare possiamo cominciare professor Presutti conduce la tavola rotonda accomodatevi possiamo andare dottor Sergio Motta eh per favore qualcuno potrebbe avvisare il dottore che forse si è accomodato all'esterno che sta cominciando la tavola rotonda professor Gaetano Motta Sergio Motta voglio da lei eh se magari lo avvisa grazie cominciamo che siamo in ritardo allora direi di cominciare perché siamo un po' in ritardo mi pare buonasera a tutti e complimenti agli organizzatori ehm siamo collegati con credo siamo collegati ciao con il professor Hamed Genaid che è il direttore del reparto di foniatria dell'ospedale di Helsinki I don't know if you can hear me I can hear you very well and I are able to hear me as well welcome in Italy sorry for delay no that's totally fine just a few words just a few words to introduce you so professor Hamed is associate professor on Helsinki University is was a researcher in Karoliska Institute in Stockholm and from 27 from now is head of department of ENT hospital of Helsinki is current president of Finnish laryngological society is also current president of Union of European foniatricians professor Hamed is author of more than 50 important articles in international journals and is editor of three books about European manual of phoniatrics test books and is also invited speakers in more than 25 international congress actually the CV of Hamed is very very long but this is a very very short summary of his CV so your conference your lecture Hamed is a kind of interview if you agree so it's my pleasure to introduce professor Arcadio Vacalevre in order to make the first question to you and thank you for coming in this virtual conference is a real pleasure for us because you know we need to introduce again to increase our culture about phonetics and phono surgery in Italy so in my opinion you are the best colleague to do this important function thank you so much thank you so much please professor if you want to do the first question please can you hear me I hear you very well thank you okay thank you what is phoniatrics now and what do you do in your institute that's a wonderful question and I'm really thankful for your question as well I hope that you are able to see my presentation and that my voice is clear for you one of the things that come to my mind is that I would like first to apologize for not being there personally it is just that I had patients in the few days before and few days after this presentation so I was not able to be there with you physically but I'm sure that this is going to be a start to have close cooperation especially with your growing interest in phonosurgery so I'm in TN penutrition as well and where I work here in Helsinki University Hospital we have a long history of phoniatrics department probably dating back since 48 and when it comes to phoniatrics we look at it as a speciality that is dealing with communication disorders so it is not only voice but we also have patients with speech and language and hearing problems in addition to a growing number of of patients with swallowing disorders and I guess in the future we will have more and more patients with swallowing disorders due to the aging population as well as patients with voice problems we have to remember that it's more or less an European specialty so when you look at the names including the names from Italy you will find that right now the distribution for example of the members of the union of European for nutrition is mainly in Europe and it's very interesting to see that how things developed in the last years with more and more surgeries and interventions done under local anesthesia to get forward also and to tell about the phoniatric speciality here in Finland it has been independent since 1948 we have an independent specialty for phoniatrics and it includes about three to three and a half years in the phoniatrics department in addition to nine months in ENT and audiology and also a group of let us say different options that you can do months in pediatric neurology psychiatry genetics or plastic surgery in addition of course to the primary health care the idea here is our resident will be exposed to phoniatrics as well as that during his or her residency if she is interested in speech and language she can get a few months in genetics if she is interested in phonosurgery then go to ENT and also plastic surgery we do not have many specialists in phoniatrics here we have in whole Finland a small number of only 30 specialists and it comes to ENT specialists in Finland we have about 350 to 400 and I have to mention as well that some phoniatricians out of these 30 are both ENT and phoniatricians like myself my department also and all of the departments that deals with phoniatrics here in Finland they have a huge number of speech service that they deal with and usually the speech service are in the public sector in my department we have about in the department of phoniatrics here not the ENT because the ENT is much bigger in the phoniatrics department we have nine phoniatricians including one resident two of these phoniatricians are ENT we have also nine speech therapists nine neuropsychologists and psychologists AAUC instructor which is alternative and augmentative instructor occupational therapist special kindergarten teacher social worker we have two of them to help the patients when it comes to you know like applying for certain kinds of unemployment for example compensation if they are singers that are stopping their work we have even a clinical phonetician probably the only in Europe dealing with the voice lab that we have and this is the phoniatrics department the ENT is much bigger because we have about 55 ENTs including different nutrition so it's a much bigger one I hope this answers your question sure you're very lucky I'm thinking about you have nine speech therapists that I think in Italy no one has such a great number like this thanks a lot okay second question is from professor elizabetta cantone elena sorry good evening professor it's a pleasure for me to have the possibility to ask you a question and my question is what kind of voice do you usually treat in your department and could you tell me and could you tell something about the procedures that you perform in local anesthesia thank you yes thanks thanks as well this is this is a very good question and I guess talking about the different voice procedures that we can make they are quite many I will be talking here only about the voice procedures that we make under local anesthesia and the swallowing procedures under local anesthesia so I will not talk about the ones under general anesthesia because it's a huge different list we do about 20 to 24 products injections every second week the idea is that we are the only ENT hospital for a catchment area of about 2 million people in addition to that we get referrals from other parts of the country we do the products injections usually under local anesthesia in the TA thyroid thyroid the posterior crico thyroid very few cases in the crico thyroid if they have problem with or mandibular dystonia platusma as well and we also do the office phase procedures like the vocal fold augmentation or CO2 laser under local anesthesia taking biopsies under local anesthesia and some other procedures under local anesthesia as well I guess we have about 8 procedures under local anesthesia laryngological one every week here and about 20 to 24 potox patients every second week when it comes to the swallowing procedures we of course do the phase examination and what we call a rehabilitation phase for patients with swallowing disorders and we also do the trans nasal esophagoscopy which we actually started after a colleague from Italy I guess his name was Ingo Herman visited us some years ago and he gave a lecture about thank you so much Ahmed so the third question is from professor Diego Cossu from Turin Thank you and I'm very very happy to meet you also in a virtual conference I have a lot of questions for you but I'd like to know before all how do you perform the vocal fog augmentation in local anesthesia which kind of material do you use autologous fat or biocompatible materials thank you thank you very much thank you as well and I will go through this in a number of slides I have to tell that this is we don't have much time so I will try to concentrate as much as possible on what can be done under local anesthesia but if we have time and if you have time then I can go for a longer one when it comes to this presentation I will try to go very quickly about the material that you can use for the augmentation when do I go for augmentation versus thyroplasty if the patient has vocal flow paralysis what we call here the quick intervention model using hyaluronic acid and then the application of calcium adruxia appetite for patients with atrophic dysphonia and of course a couple of words on fascia augmentation and fat fascia augmentation and fat they are the ones that are mostly used in the world as permanent ones we do not use fat because our experience is that it will disappear but we use fascia when we would like to make a permanent augmentation of the vocal fold and especially fascia lata not the temporalis fascia and we do the fascia augmentation under general anesthesia almost all of the time so for this presentation I grouped the different materials that are available in the world into this table here you here can find the materials that are staying there for less than one year like for example the hyaluronic acid here this one you also can see the materials that stay for about one to two years in my opinion including the fat and the calcium droxy appetite and the ones that stay almost permanently like fascia or the box implants what I do is that if I aim for long term augmentation then I would go for the fascia if I have a patient with atrophy of the vocal folds then I would go for the calcium droxy appetite and if I have a patient with idiopathic vocal fold paralysis then I would go for the hyaluronic acid because in this situation it will stay there for about four to six months and then it will disappear quickly if the vocal folds start to move and I told that for sometimes I also think about what is the reason that in certain countries they do more thyroplasty and other countries they would be doing more vocal fold augmentation actually the reason is mostly subjective you will find in the literature some talks about three millimeters being the limits like less than three millimeters you go for augmentation bigger than this you go for thyroplasty but you cannot measure how many millimeters except by what is called laser triangulation and no one is using it in the clinical practice so it is mostly subjective decision and of course we do offer both therapy to these patients as well on the top when I go for under local anesthesia I usually choose between the three routes here to go transoral transthyrohyoid or transcricothyroid and my most preferred way of going for the injection under local anesthesia is the transoral one because in my opinion it is the easiest and you don't have to stop the anticoagulants if the patient is running on them because simply the first touch that you have between the needle and the tissue will be on the top of the vocal fold and you won't have to go through the neck if there is a man with a prominent Adam's apple and gag reflex which is awful then I would go transthyrohyoid if there is a lady with a gag reflex that is quite hard then I would go trans cricothyroid what I do is that I use usually about 4 milliliters of lidocaine 4% and I would do that with the magic spray it's nice one after you have a little bit of silocaine there in the throat as well and it gives you a window about 5 to 10 minutes to go and do the augmentation or take the biopsies if needed and usually it looks like this so here you see that I aim for the phase the tongue the epiglottis the vocal pole and it is normal that the patient is coughing and I tell the patient that it is nice to have him cuffing or have her cuffing because this will help to disseminate the lidocaine more about the vocal codes and below it and then if I go for the transoral I usually use this Renault transoral needle because it has a couple of black markings on it so you know exactly when you are under the vocal fold and when you are above it this is a little bit a video which is slower than usual because I would like to show that I am leaning on the tongue veins and the hip glottis to make sure that the needle is not going to be moving and then I go to the vocal floor start the injection the patient of course is energized here and I can get an idea about the voice and of course I aim for over correction because part of the material is going to disappear within a couple of days for example for the hyaluronic acid and then I can adjust if I would like to have more and then I am done for the trans thyrohyoid and the transcricothyroid I use just normal needles I mean for the thyrohyoid an 8 centimeter needle is going to be enough for the cricothyroid a 3 centimeter or 4 centimeter is going to be totally enough and usually the gauge is about 22 to 23 when it comes for the syrohyoid after the anesthesia of the glottis you can go directly in the vocal fold that is paralyzed and start the injection and here you will see the left vocal fold getting more and more bigger in terms of the thickness with the augmentation material going into it and this is the first voice and I need to have this pressed voice in the end of the operation because as I said part of it is water and will disappear for the cricothyroid which is a different situation you would go from the cricothyroid up into the vocal fold I usually try to move the needle inside the vocal fold to know where exactly am I and if I see a little bit of material bobbing up from it then it means that I am superficial and I need to go a little bit deeper like what you will see here here the needle is there below the right vocal fold going bit by bit into the right vocal fold I'm moving it a little bit and at a certain moment in a few seconds from now you will see a little bit of white material which is a calcium matrix appetite in this situation coming out and that means that I need to go a little bit farther into the book here you see it and I go a little bit farther inside and I start to see the bulging of the vocal fold as I want it to be as I said the quick intervention model is simply that we right now when we have a patient coming to us with unknown etiology we had the CT done we know that the patient doesn't have anything along the recurrent laryngeal nerve then we would go with temporary augmentation as soon as possible and we will wait for six months if the vocal folds start to move then we are happy with that and the material the hyaluronic acid is going to disappear but if it is still paralyzed then it means that in this situation the patient will be able to go to work during the six months the patient will be able to have a good social line will be able to communicate with the others which is the main important thing for us of course if the patient had some kind of thyroid surgery in which there was a cancer there part of the recurrent was cut up about three centimeters for example or two centimeters or more and you were not able to do hemorrhoffy then we know that this is a lost case and the vocal fold will not move and accordingly you can plan for a permanent surgery like thyroblasty or permanent augmentation depending on the situation of course without weight why we do the augmentation quickly because simply when we do it we aim to have it one month from the paralysis we want to have a good functional voice almost immediately for the patient we would like to have a marked reduction of the vocal fold paralysis symptoms especially when it comes to voice and swallowing and even as you know there has been some researches that noted that when you do the augmentation as quickly as possible you would expect that the patient may not need thyroplasty because the vocal fold is in many times has still a good tonus and many times is almost in the midline what also I gained from phoniatrics in addition to ENT is a good understanding of the functionality of the voice that the patient sometimes when the vocal fold is paralyzed can develop the wrong compensatory technique and we see this sometimes for example here in this patient the last vocal fold is paralyzed and right now listen to her voice when I turn it on it is like this I hope that you heard it no let me try again you didn't hear it a little bit but no sound no sound here okay and here yes yes okay I would say that before the augmentation her voice was too as a mini mouse you know like very high pitched and very superficial and after the augmentation because you have here a nice vocal fold vibration then the voice got much better and she got away from this strong compensatory technique and for the atrophy and now I'm changing a little bit the subject going away from vocal fold paralysis I'm going for the atrophy which is probably going to be much of our work in the voice clinics in the future with many patients who are aging who would like to still be at work with the retirement age going up in our countries with the less funding available for the retired this is going to be probably easier in the future right now what I use is calcium and ricksy appetite and under in this situation for example this is patient with atrophy of the vocal fold and breathe good and breathe and breathe and for these patients what I do is that I start with offering them voice therapy by the speech therapist if the patient is not happy with this and would like to have a little bit of more firmness in the voice and we go for the augmentation and if the patient is having about three augmentations on three years four years and would like to have a permanent result then I would do thyroplasty using Gore-Tex immediately by the middle part of the vocal fold and of course I use the voice lab to have an almost objective idea before and after for the same patient when it comes to the augmentation it's as easy as this you have the anesthesiologist you have the anesthesia done there and then you go under local anesthesia you again try to gain a little bit of firmness from the tongue base and from the abiglottus to make sure that the needle is not going anywhere and I go first for one side and the patient here is cooperative the right vocal fold is already being done and after that I shift to the left vocal fold so here is the vocal fold being injected and now it is done and this is like how long it is probably less than one minute and when the patient is cooperated the anesthesia is good and you have this window of five to ten minutes then everything is done and the patient can go home on the same day because simply we do not keep the patient they stay for about 30 minutes and then they go back home I usually ask them to have two days of voice rest pain killers like paracetamol epiprofen will usually be enough and about five days of sick leave is more than enough for them and they give them sufficient information on the effects on pre-thing because in the beginning they will notice that it is not as it was before the injection and probably for a few days they will feel a better to go over my time and I hope I succeeded in that and of course I'm open to have any other questions that you may have I was told that I did you utilize specific criteria for selection of presbyphonic patients and if you use this method just after rehabilitation speech voice therapy or not yes I will go to this slide because in my opinion this is the most important slide when it comes to this not all patients with atrophy would like to be treated many of them would like to know that they don't have cancer and they are happy with that and if they are happy with that and they are not actively seeking treatment then that will be enough for me those who like to have treatment I offer them voice therapy in the beginning because in many times in my opinion it can be enough if the patient is not happy with this and the patient from the beginning knows about the possibility to have the vocal fold augmentation then the patient can call us after the voice therapy and we go with the calcium hydroxy appetite injection and always before and after voice lab to be sure that if there is an effect or not because we tend as professionals sometimes we think no you know probably the patient got a little bit of help got a little bit of firmness but it's very important to have this recorded before and after and analyzed to make sure that there was really an effect thank you so much Ahmed thank you and congratulations of your excellent lecture thank you so much and hope to see soon in Italy in presence thank you so much hopefully you will be here one day it's a little bit colder but nice as well okay thank you so much and see soon thank thank you Grazie. 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 Grazie a tutti. Giusto per delle domande, con Diego ci eravamo accordati un pochino di fare delle domande ad Andrea, anche per capire più o meno quelle che sono le esigenze di un professionista rispetto all'attività professionale, rispetto alla riabilitazione. Io so che tu non hai studiato canto. No, purtroppo no. Come hai imparato? Isato istinto di sopravvivenza. Che vuol dire? Ti spiego. Spesso mi è capitato di fare serate, una dopo l'altra, soprattutto agli inizi. Mi capitava spesso di avere poi problemi di voce, perché evidentemente non la usavo nel modo giusto. E questo mi ha fatto avere un'attenzione molto più efficace. E anche un controllo maggiore. Sì, perché ho incominciato a capire che per esempio le chiacchierate prima con la musica alta forse andavano evitate, perché lì non hai un controllo di quello che succede realmente. E poi c'è bisogno di riscaldamento, c'è bisogno di tutelare la propria voce. Infatti poi è un obiettivo che sicuramente in futuro porterò avanti, però per adesso ancora no. Diego, puoi procedere tu con il prossimo. Allora, ciao. Tantissimo piacere. Piacere, Andrea. Ho l'occasione di sentirti e l'occasione anche di apprezzare moltissimo l'applicazione che tu hai fatto sulla tua esperienza su persone che avevano bisogno di un approccio trasversale alla voce. Io mi sono occupato tantissimo di voci estreme, una delle quali è il beatboxing. Sembra strano quanto una persona che non abbia uno studio curriculare del canto abbia poi una maggiore facilità all'utilizzo di quello che è la componente fondamentale del beatboxing, ovvero l'utilizzo delle dinamiche di accoppiamento tra vibratore e componente risonanziale. Bene, non hai studiato canto, ma come hai scoperto come utilizzare le tue cavità risonanziali per essere una batteria, uno strumento diverso da quello che si sente normalmente uscire dalla bocca? Allora, ti rispondo da un punto di vista non scientifico, ma della mia esperienza. Secondo me il beatbox è intrinseco a ognuno di noi in realtà. Cioè poi ogni lingua, cioè se solo pensiamo per esempio ad alcune lingue di tribù africane dove il click per esempio rientra proprio nella lingua, no? Nella nostra alcune P, alcune T sono frequenti nel linguaggio comune, però non diamo quegli giusti accenti a poi definirli suoni. Ovviamente le parole, le lettere sono tutti suoni, però non diamo quell'accezione di sonorità. Il beatbox è forzare o lasciare andare questi suoni. E quindi per questo poi l'approccio con il paziente è stato, a parte vabbè che in quest'ambito c'è un'energia pazzesca, quindi quello secondo me è la chiave e per questo vi faccio i complimenti, faccio i complimenti alla dottoressa Esposito. Però è qualcosa che abbiamo e va solo sviluppato, quindi con l'allenamento, con la costanza e con un obiettivo. Bellissimo. Ci puoi dare una piccola dimostrazione di quello? Come no, ma super volentieri. Magari non sanno insomma di che stiamo parlando. Ladies and gentlemen, 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 listen, listen, listen. Bravissimo, veramente. Grazie mille. Tu hai chiamato in causa Sara Esposito, la nostra principale colpevole di questo progetto, perché ha creato lei i presupposti per questo approccio anche diverso dal solito. Tu l'hai preparata e Sara è molto brava, ed è lì tra l'altro Sara, ed è l'unica che riesce a riabilitare i pazienti, almeno per il momento. Com'è stato cercare di insegnare, di trasmettere questi messaggi, diciamo, dinamici? Allora, devo essere sincero, in passato ho sempre avuto esperienze nell'insegnamento, ma che poi ho sempre rifiutato, perché, ripeto, credo che in questa disciplina ci voglia tempo a disposizione, dedizione, devozione, passione, ed è quella che ho ritrovato, per esempio, perché avere un approccio accademico, secondo me qui non funziona. Qui non c'è bisogno di tecnica, c'è bisogno di energia, c'è bisogno che il paziente senta quel tipo di vicinanza, quel tipo di sensibilità. In questo mestiere, se non si regge quel tipo di passione, quel tipo di sensibilità che mette in comune dottore, dottoressa e paziente, si perde un po' tutto. La forza è stata questa, l'estrema sensibilità. Almeno nella fase iniziale, perché penso che nella fase iniziale trasmettere, poi dopo comunque il controllo, la dinamica, la tecnica, è importante, ma viene richiesta proprio dai pazienti. Diego, vuoi fare qualche altra domanda? Io ti volevo chiedere se, proprio nel processo dell'acquisizione di abilità, esistono degli step, cioè dei momenti tecnici diversi, che il beatboxer applica a se stesso per acquisire degli skills particolari e se poi questi skills possono essere passati, trasferiti, proprio con una valenza anche magari di didattica, oltre che riabilitativa. Assolutamente, questo esiste. Si parte sempre dai suoni principali che sono il kick, l'i-hat e lo snare, che poi riprende molto nella batteria. Quindi il kick, i-hat, snare, oppure le varie dinamiche. Questa è la partenza. Poi da lì si sviluppano tantissimi suoni, ma in realtà mi entra in gioco tantissimo la creatività di ogni beatboxer, no? Che è colui che fa beatbox. E tant'è che moltissime delle tecniche prendono poi il nome del beatboxer. Cioè una disciplina in continua evoluzione. Infatti è interessante proprio questo. Dicevo prima, sarebbe bellissimo poter fare un'altra laringoscopia, che è stata per me un viaggio pazzesco. Lui si è divertito, quindi per me... No, bellissimo, cioè se la facciamo adesso... Era proprio questo di cui parlavo, la gestione dell'accoppiamento tra corde vocali e strato sovraclottico. È importante. Io mi sono divertito ancora più di te per farlo. L'abbiamo anche battezzata, questa tecnica. L'abbiamo chiamata la ringobit, la riabilitazione creativa. È stata sempre Sara a darci questo spunto. E in parole povere, la tecnica si basa a uno scopo funzionale importante. Cioè noi abbiamo utilizzato le pressioni, le forti pressioni che possiamo sfruttare grazie a questa tecnica per riabilitare i pazienti con patologie importanti, esiti di cordectomie, paralisi cordali. E abbiamo visto che il fitting è altissimo. In più stiamo lavorando sulle disfaggie associate alle paralisi e alle dislocazioni a ritornidei. Però diciamo che tutta la tecnica verrà poi esposta nella relazione del 3 dicembre, alle 15 e 15, nella sala 2, e sarà proprio Sara a darci i dettagli maggiori. Quello che però vogliamo farvi ascoltare è veramente cosa hanno ottenuto i pazienti. Queste sono delle performance create e arrangiate da Andrea. Ci spieghi com'è stato? Allora, è stato. Io pensavo di andare incontro a una sessione di registrazione anche un po' complicata, nel senso che avere a che fare con una tecnica al di là del tempo, della musicalità, è un conto. Poi rientrare in uno studio di registrazione, sia anche improvvisato, e poi andare a tempo, rispettare delle tonalità, delle note, cioè non è semplicissimo. In realtà è stato tutto molto semplice, veloce ed efficace. E voglio, ci tengo a dire questa cosa, ciò che sentirete adesso è, tranne il basso, che ho fatto io, è tutto eseguito dai pazienti. Cioè, io ho lavorato esclusivamente sull'ambiente, quindi ho messo nel caso un po' di reverbero, o in alcuni casi l'ho tolto. Ma tutto quello che sentite è stato performance e esibizione dei pazienti. E questo, devo dire, è straordinario. Abbiamo anche lavorato da casa. Qualcuno anche liberamente dal bagno di casa. E' il più birichino e simpatico dei nostri pazienti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ovviamente la performer non era una paziente, ma era una studentessa del conservatore, che per caso, per puro caso, ha il mio stesso cognome. L'opinione dei pazienti, questo è quello che ci hanno detto i pazienti, cioè come hanno trovato, diciamo, l'approccio a questa tecnica? Ho un approccio molto stimolante, una tecnica, direi, innovativa. Credo che un po' comunque quella classica spanica. E invece questa con i suoni, anche con le canzoni, no? Si prova a cantare. È più divertente. Quindi si impara giocando, praticamente. Mi è piaciuto dal primo momento. La tecnica mi ha giovato molto. Mi sono trovato molto bene. Era un amore divertente. La mia voce, che era più soffiante, è diventata anche più chiara. È una tecnica per niente noiosa. Mi ricorda molto la musica, mi ricorda molto i ritmi. È efficace perché ho imparato a gestire meglio la respirazione e la voce durante il parlato. Ma anche divertente, stimolante, nel tentativo di imparare i vari suoni. Prima, alla molto più sottile, abbiamo avuto delle risultate così ottimi. Io ci tengo a sottolineare che queste hanno patologie serie. Questo paziente ha avuto un intervento di cortectomia sette anni fa. Mai riabilitato. Non parlava proprio. Cioè, le patologie erano veramente importanti. Hanno ottenuto i primi risultati in quanto tempo? Sara, in quanto tempo? Poco. Dieci terapie. Quindi, diciamo che è stato veramente molto incoraggiante per noi. E poi loro, almeno non saltano le sedute. In realtà non è una tecnica pura, è una tecnica ibrida, perché va associata a tutto un altro lavoro che si fa, ovviamente. E' qualcosa in più che cerchiamo di dare ai pazienti. E questo è il gruppo di lavoro. C'è il professore Gaetano Motta, che ci ha sempre supportati su questa linea. C'è Sara, c'è Andrea. E c'è la dottoressa Villari, che è la nostra senior logopedista, che ci dà sempre degli spunti interessanti. Noi ormai lo abbiamo preso, diciamo, cioè non lo molliamo. Però io credo che, come questa, tante altre tecniche possono essere utilizzate anche per dare comunque degli spunti in più ai pazienti, per dare delle prospettive diverse. Ma tutto quello che gira intorno alla riabilitazione della voce, che passi attraverso tecniche, tra virgolette, tradizionali o tecniche alternative, sono tutti approcci che hanno poi un effetto positivo sulla parte finale. Noi non sentiamo solo la voce, ma quello che poi in realtà la voce trasporta come emozioni. E quindi riuscire a lavorare, bellissimo, in un contesto corale, dove c'è sia il groove che la parte melodica, è una cosa che poi va rimontata dalla dimensione di quanto questo lavoro sia importante. Non solo dal punto di vista glottico, ma dal punto di vista sociale. Credo che sia veramente importante che tutti noi, voi, i musicisti e i medici, trovino un linguaggio comune. Complimenti, è veramente un bellissimo lavoro. Bravissimi tutti. Grazie Andrea, grazie per tutto. Grazie a voi. Allora, buonasera a tutti, ancora buonasera e benvenuti. C'è adesso la presentazione sui 25 anni dell'Aoico, perché il 2021 è la ricorrenza dei 25 anni dalla nascita di questo progetto e abbiamo pensato quindi di ricostruire attraverso i ricordi che ci hanno fornito in primis il professore De Campora, ma anche il professore Ciofelli, Marco Radici, Luca De Campora, Angelo che vedo qui presente, di ricostruire questa bellissima avventura dei 25 anni di questa associazione. Io sto prendendo a dire la vita un po' di tempo perché vorrei, aspetto che venga in sala anche il professore De Campora, chiaramente stasera io faccio lo storyteller o il cantastorie, come si direbbe in italiano, perché poi, diciamo, almeno all'inizio io non ero operativo e quindi grosso merito va al dottor Ciofelli e anche a Marco Radici, che ha saputo magistralmente ricostruire con i suoi ricordi la storia della nostra associazione. Quello che posso dire come esperienza personale è che la OICO, prima GOICEM, è stata un'opportunità grandissima per noi giovani. Io ero appena laureato quando ho partecipato, il dottor Ciofelli lo ricorda bene, al suo congresso di Teramo e poter partecipare all'interno di consessi dove c'era il meglio dell'autorità inglese italiana, quando non c'era internet o quando per aggiornarsi bisognava partecipare, ma serve anche oggi. Ecco, poter confrontarsi col meglio dell'autorità inglese italiana e poter crescere era un'occasione unica e imperdibile. Poi quando il tuo maestro, nel mio caso il professore Villari, che ancora ringrazio, gli diceva bene, tu sarai relatore al prossimo congresso a OICO, bene, ti tremavano i pulsi perché magari il tuo presidente di sessione era il professore Laudadio, il professore De Campora, e quindi studiavi come un pazzo, provavi a immaginare o nei tuoi incubi sognavi lui che ti riprendeva su qualcosa, però poi alla fine quando la relazione finiva lui ti diceva Bravo Di Maria, beh, c'era un semicollasso, c'era un totale rilassamento perché capivi che la strada era quella giusta, però ci hanno insegnato a studiare, ci hanno insegnato ad approfondire gli argomenti e ci hanno dato un metodo, ci hanno dato la possibilità di emergere, è successo a me, è successo a Luca De Campora, per parlare di un caro amico, quindi di misurarci su alcuni palcoscenici che poi ci hanno permesso di arrivare dove siamo arrivati. E quindi stasera la OICO mi regala un'emozione grandissima e quindi vi chiederò scusa se trapellerà la mia emozione, ma io sono profondamente legato a questa associazione, ai padri di questa associazione. Cominciamo, e qui c'è la mano del grande Marco Radici perché è riuscito a dare un parallelismo storico, quindi all'evocare, diciamo, ricordi dal nostro passato con gli anni dell'AOICO, da quell'anno, il 94, quando Jeff Bezos immaginò di distribuire libri a tutti e quindi nacque Amazon, il Milan vince la sua Coppa dei Campioni, c'è l'incidente mortale di Senna, il ricordo di Baggio penso che lo ricordiamo amaramente tutti, Quentin Tarantino scrive e è regista di Pulp Fiction e Berlusconi fa il suo primo governo. In quell'anno, e qui c'è il racconto, ecco il contributo di tutti i past president, qui c'è il contributo di Alfredo Procaccini, nel 94 in un'estate il professore De Campora e il compiando professor Marzetti più o meno invitano i primari del centro-sud a riunirsi perché c'era bisogno di dare voce a un gruppo così nutrito di primari che operavano nel centro-sud capaci, validi, ma che non erano così ben organizzati come quelli del nord. E a tale proposito Alfredo Procaccini fu investito a organizzare questo evento a Martina Franca. Queste sono le foto che mi ha cortesemente inviato perché in questi ultimi mesi, chiedo scuso, sono stato un po' pressante con tutti. Si decise di organizzare questi congressi in un mese nel quale non c'erano molti eventi e quindi fu gennaio, in quel caso il 28 gennaio 1995, con un argomento sicuramente pregnante e importante che era la metodologia diagnostica del carcinoma della laringe. E queste sono le foto che Alfredo ci ha cortesamente mancato per essere stasera qua, ma per motivi familiari, seri, non è potuto essere presente. E lui nel suo racconto dice che fu investito tutto il suo personale, quindi colleghi, infermieri, os, per poter organizzare la media in questa bellissima biblioteca, cosa che non ricordo perché non c'era, a dire la verità, il primo congresso interregionale. E quindi magari qui vedo presente Marco Radici, Angelo Camaglioni, il professore Vila, se qualcuno ha dei ricordi particolari che si vogliono aggiungere, il professore Rauda Dio, a quello che avvenne allora, mi farebbe piacere ascoltarli. Angelo, grazie. Forse perché con gli anni riemerge la memoria storica, no, diciamo che il ricordo fu semplicemente quello di, cioè quello che è la testimonianza che poi è emersa in tante altre circostanze, insomma, però io mi ricordo le passeggiate appunto dentro Martina Franca in seguito a questa situazione dove noi arrivammo tutti, passami il termine, con i mezzi propri, no, insomma, ecco, per dire come era una chiamata, una chiamata, diciamo così, tra cari, cioè colleghi che ci stimavamo innanzitutto, perché ci si può stimare anche senza avere l'amicizia. Se poi si aggiungono le due cose, secondo me c'è un qualcosa in più che permette poi di portare avanti alcuni progetti. Quindi, ecco, ricordo semplicemente la semplicità di una, e non so chi conosce Martina Franca, ma, insomma, è incantevole anche a gennaio, insomma, anche con una situazione di frescura, insomma, o forse anche per quello, perché magari uno pensa a un posto di vacanza e invece il fatto di riscoprire, di andare a trovare dei colleghi in varie parti d'Italia, anche in un periodo che magari è poco, no, a meno che non stai in una zona di compagna, di campagna, di montagna, non è neanche un posto, no, non è il momento, ma forse proprio per quello era un momento di maggiore intimità, chiamiamola così, insomma. Quindi mi ricordo semplicemente quei pochi o tanti che eravamo che si passeggiava spostandoci dalla sede del congresso a una trattoria e si incominciava a ragionare del fatto di quant'era bello poter andare a trovare tanti colleghi stimati, anche in aree che apparentemente sembravano meno del circuito della Formula 1, insomma. Grazie. Bene, allora dopo il 1994, nel 95, quando per fortuna ci fu la pace, dopo la guerra in Jugoslavia, nasce la prima PlayStation, Windows 95, Buffon esordisce in serie A, Rabbin viene assassinato e Pribke viene catturato. Quello accadeva nel 95. Il 95, quindi, anticipo nel 96, quindi la bellissima esperienza del 95 viene replicata, ammacerata, dal dottor Nicola Dagnone, che continuò a trattare l'argomento della laringe con una tematica inerente alla terapia dei tumori della laringe. E qui c'è una citazione che viene dal racconto di Marco Radici, che è la corsa al cartodromo di Sforzacosta, quindi magari Marco ci vuole dire qualche cosa, come andò a finire questa corsa, che cosa avvenne? Grazie, Mimmo. No, è un ricordo così simpatico, perché la sera dopo la cena del congresso si chiedemmo a Nicola ma a macerata che cosa fate quando avete il tempo libero? Beh, ad esempio, andiamo a correre con i cartas Sforzacosta, andiamo a Sforzacosta, e andiamo a Sforzacosta, ci mettemmo sopra al vestito che avevamo, diciamo, giacca e cravatta, le tute di carta del cartodromo, e facemmo questi giri, diciamo, un po' così, un po' spericolati, però è un ricordo simpatico. Però, oltre, diciamo, al cartodromo, credo che vada ricordata, soprattutto, diciamo, l'accoglienza che ci riservò Nicola Dagnone, in questa sede, dove lui era diventato primario da poco tempo, che di fatto nessuno conosceva bene, invece che Macerata, una città universitaria, una città prestigiosa, bella, elegante, e soprattutto, diciamo, la qualità e il numero degli intervenuti che diedero proprio corpo a questo secondo round dei tumori della laringe, che doveva essere poi un trittico, su cui, per poter attirare, su degli argomenti di sicuro interesse, anche coloro che si erano tenuti un po' lontani, per tanto tempo, che non avevano mai, diciamo così, affrontato la sfida dei congressi ufficiali dell'Otorino a Ringogliatria italiana. Quindi un ricordo veramente, diciamo, affettuoso, simpatico, soprattutto nei confronti di Nicola Dagnone, a cui ci legava poi un'amicizia ancora dai tempi del Gemelli. Cioè, Nicola è stato uno dei miei primi, insieme a Angelo Camaglioni, ovviamente, al professor De Campora, e sono state, diciamo, sono state le persone che mi hanno messo in mano per la prima volta degli strumenti chirurgici e anche da visita, durante il corso di specializzazione. E di quello ci siamo pentiti. Amaramente. Amaramente. Però non ci hai detto chi ha vinto la corsa, poi. Ma no, non era una corsa così, era... No, 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 assolutamente. Non eravamo campioni, insomma, nessuno. Grazie Marco. E nel 96, l'anno del congresso di Dagnone, Dolly veniva clonata, la Juve vince la Champions, muore Marcello Mastroianni e Mitterrand. Clinton viene eletto per la seconda volta presidente degli Stati Uniti e abbiamo una Miss Italia di colore. Il 96 precede, quindi il 97, e qui il protagonista ce l'abbiamo in sede, il professor Ciuffelli, perché proprio per l'entusiasmo che derivava da questi primi convegni si decide di fondare il GOICEM, gruppo otorino-aringoiati italiani centro-meridionali. E io sono stato lì tra i virgoletti iniziato al GOICEM, a Oigo, perché mi regai, il professor Ividi lo ricordo, insieme con Luigi Califano, proprio a Teramo, in questa, ricordo, questa grossa sala e quello che ricordo, ma magari poi ce la racconterà a me, sicuramente ce la racconterà in maniera precisa, il dottor Ciuffelli, ricordo il dottor Ciuffelli su un podio come questo è tanta, tanta confusione, una confusione molto, molto animata, delle discussioni molto, molto animate. Ecco, io ho questo ricordo particolare, oltre chiaramente il titolo e gli argomenti affrontati che furono un'ottima occasione formativa, che era quella dei tumori benigni, benigni e maligni radiroide. Quindi magari lascio la parola a dottor Ciuffelli che ci racconta quell'anno. Sì, fu una giornata molto bella, indimenticabile per tanti aspetti, sia per la partecipazione, perché ci furono oltre 500 iscrizioni. Ma c'era un motivo. E finì male, finì male perché fu la prima e unica, ultima riunione che tenemmo come goicem, cioè questo gruppo sfortunato nacque e morì nello stesso giorno. E questo fu perché ci aprimmo da ospedalieri, sinora avevamo fatto questi convegni come ospedalieri, dato il successo ritenemmo utile aprirci anche ai colleghi universitari che aderirono in gran numero. Ci fu però la rottura, avvenne la mattina andò tutto bene la parte scientifica, al pomeriggio c'era l'assemblea dove si doveva nominare il nuovo direttivo, i nuovi organi dirigenti e ci fu una controversia pesante sulla interpretazione del regolamento. Il regolamento prevedeva che per essere iscritti bisognava fare una domanda, le domande dovevano essere vagliate dal consiglio direttivo in essere e da lì accettate o meno, quindi venivano, sicuramente sarebbero state accettate, ma al momento non c'erano. Gli universitari avevano partecipato in gran numero facendo partecipare tutti i loro specializzanti, quindi perciò raggiungemo questo numero così ampio e da parte degli ospedalieri ci fu una certa diceva come questi arrivano adesso si prendono questo giocattolo e comunque fu un'interpretazione diversa del regolamento per cui alla fine l'assemblea non si riusciva a chiudere, eravamo ospiti di una banca, una banca popolare che per il regolamento non devono avere delle sane immense e io ero responsabile di questo affido per cui alla fine per troncare il tutto dissi che davo dieci minuti dopodiché avrei chiuso tolto la luce e chiuso la porta e quindi l'assemblea finì ma con l'assemblea finì anche il Goicem quindi questi furono i ricordi e Teramo penso non abbia mai avuto un convegno con tante centinaia di specialisti. Grazie, grazie dottore Ciofelli grazie mille come no professore prego solo per completare con un antefatto devi sapere che nella fase preparativa del Goicem a un certo punto mi arrivò una sollecitazione da parte del mondo universitario perché non facciamo una cosa tutti insieme vedrai che sia una bella iniziativa cresciamo tutti io non posso decidere però ne parlo vedrete che non ci saranno difficoltà e così convocai i colleghi con i quali avevo avviato questo discorso e ancora ricordo i nomi Francesco Grande Francesco Laurini il fetentone che sarebbe Peppino Villari l'amico mio del cuore Angelo Camaglioni non so se c'era anche Francesco Marzetti e io presentai questa cosa dico guardate c'è questa sollecitazione mi sembra un'ottima idea perché questo comporta sicuramente un arricchimento culturale da parte di tutti fui aggredito aggredito da parte di tutti devo dire fu uno schieramento unanime contro il mondo universitario anche io fui preso un po' alla sprovvista da questa reazione così violenta che non mi aspettavo allora dissi dico scusate ma avete fatto un sacco di complimenti per questa iniziativa che nasceva per quanto era bello il goic e me c'era la prima volta che io vi chiedo una cosa mi votate contro e una cosa a questo punto ci fu un breve conciliabolo dopodiché mi dissero guarda noi saremmo contrari però se tu ce lo chiedi e noi non ti possiamo dire di noi e quindi accediamo e così arrivamo non l'avessi mai fatto perché nel momento in cui si rivelò la vera volontà del mondo universitario fui di nuovo aggregato vedi te l'avamo detto ci fu uno che mi disse questi ci vanno fottere indovina chi era però devo dire che la giornata non finì male la giornata finì bene perché riuscimmo proprio con quella strategia di Carlo a sospendere l'assemblea e a far naufragare il goicem che poi fondammo ovviamente con un nome differente che poi la oico grazie grazie professore grazie tante il 97 fu l'anno di Harry Potter l'anno del terremoto in Umbria e Marche della morte di madre Teresa ci sono sempre un paio di morti dell'incidente che vide perdere la vita nediriana e anche l'omicidio di Versace e Dario Faux che viene insignito del Nobel e allora l'anno successivo dopo quello che ci ha raccontato il professor De Campora si decise di tornare in un ambiente più diciamo familiare e questo lo ricordo bene perché ero nella schiera del mio maestro il professore Villari io a dir la verità sono riuscito a recuperare la bellissima pubblicazione che nacque postuma rispetto al titolo del congresso che ricordo benissimo ma è doveroso lasciare a lui la parola per darci i ricordi di quell'anno se potete portare il microfono lì professore Villari questa è stata una delle mie congressi più diciamo sofferti perché con la fine del Voicem venne Enrico e Francesco a Napoli con Francesco Grande anche e mi dissero adesso tu devi fare rinascere l'Aoico e sai l'impegno era veramente pesante perché non sapevo com'è e invece veramente ci fu una partecipazione tu te lo ricordi veramente molto molto sentita e così vennero da me sia Francesco Marzetti sia Enrico ma hai visto quanta gente hai visto e così insomma l'entusiasmo mi prese anche quando era ormai iniziato il congresso era una bella sala quella della sala congresso alle terme e poi c'era uno scenario veramente molto gradevole con tutte le terme e l'hotel Binieri che ci ha dato una strutturalità veramente grande e così ripartì la OICO grazie professor prego professore De Campora prego non era OICO era ancora centro sud eravamo ancora nel limbo scusa prima che l'Alzheimer mi bruci quei pochi neuroni e quindi faccia scomparire la memoria innanzitutto voglio sottolineare il gesto democratico con cui ci rivolgemo a Peppino noi gli dicemmo che ne pensi vorresti non vorresti tu devi ma a parte questa butada la cosa ci fece particolarmente piacere perché fu la prima volta che finalmente una persona per bene una persona buona e un professionista serio aveva un riconoscimento da parte sia pure di una piccola parte dell'Italia grazie concordo pienamente professore e quindi andiamo avanti in quell'anno ci fu la tragedia del Cermis Titanic riesce ad avere lo stesso successo anche come incassi di Ben Hur nasce l'Euro la Francia vince il mondiale e il grande e troppo maltrattato Pantani vince sia il Giro d'Italia che il Tour de France e qui arriviamo al 99 quando il dottor Riggio anche questo ricorda il Cosenza organizza il congresso sulla chirurgia della parotide e qui tutti riusciti a leggere però il professore De Campola sicuramente ci potrà raccontare quell'anno che è più importante perché ebbe modo di tornare nella sua Cosenza quindi professore se ci vuole dare testimonianza anche di questo Beh sì era la prima volta che io tornavo a Cosenza e fu un momento particolarmente significativo intanto perché Cosenza era una delle mie due case perché io sono cosentino di nascita ma napoletano di famiglia quindi ho il dono della ubiquitarietà nell'ambito calabro campano ritornavo quindi in una delle mie due case ma fu anche l'occasione in cui fu ricordato mio padre mio padre era stato prefetto di Cosenza e in quell'occasione se voi ricordate in occasione della cerimonia inaugurale prese la parola Mancini che all'epoca era segretario del partito socialista italiano ed era in quel momento sindaco di Cosenza e in quell'occasione non solo dette il benvenuto a tutti noi congressisti ma volle ricordare mio padre nell'ambito sia di quello che era stato il suo ruolo istituzionale sia per quello che era stato sul piano umano e sociale che bello e quindi quello fu l'anno Mimmo io vorrei ricordare anche un'altra cosa che mi commosse un pochino perché poi ci fu la scena un ricevimento nel palazzo della prefettura diciamo e il professor De Campora mi disse vedi questo balcone io facevo Babbo Natale la notte di Natale e dovevo stare fuori all'aperto in attesa di fare i regali cioè io quindi vestito da Babbo Natale stavo su questo balcone ecco questo è un altro particolare così un po' più simpatico della vicenda insomma e Cosenza ci accolse tutti in modo molto molto cordiale grazie Marco 99 Oscar per la vita è bella la tragedia del traforo del Monte Bianco viene beatificato Padre Pio le Brigade Rosse tornano con l'omicidio del consulente del lavoro Massimo D'Antona Putin prende il potere e Papa Giovanni Paolo II inaugura il Giubileo e questo è un altro anno topico che chiaramente vede protagonista il nostro il padre dell'Oico e il professore De Campora perché nasce l'idea quindi il 5 marzo 99 presso l'isola di Berina di far nascere l'Oico e quindi professore ci dica qualche cosa anche per quest'anno che poi è stato diciamo l'anno zero per quanto riguarda l'Oico beh c'è poco da aggiungere a quello che ho detto anche prima nella riunione del del primo pomeriggio fu il momento in cui la formalizzazione dell'Oico ebbe motivo di esistere perché tramontato il Goicem avevamo un periodo di attesa e di studio per valutare la volontà popolare la volontà di tutti di continuare in quell'esperienza constatata questa volontà allora decidemmo di formalizzarlo con un nome cambiato che non poteva essere Goicem ma che divenne a Oico forse meno elegante del primo ma certamente più attinente a quello che era lo spirito degli elementi costitutivi dell'associazione grazie e qui vabbè c'entra il mio minimo contributo alla Oico perché una volta fondata il professore Villa viene da Medis abbiamo pensato pensato ad un logo perché non immaginiamo l'Italia del centro sud che ha a che fare con questo acronimo con A Oico e quindi immaginiamo che il centro sud quindi scontornato delle regioni del nord con le isole che si vedete si avvicinano quindi si abbracciano intorno all'acronimo A Oico il fatto che eravamo nel 99 2000 i computer erano molto lenti non c'erano le tecnologie da adesso quindi io trovai un libro il mio libro di geografia delle scuole medie feci la scansione dell'Italia politica mi misi con il primo photoshop per nottate a scontornare questa e quest'Italia quindi elaborai questo rudimentare logo che però con il nostro e il mio grande argoglio poi è rimasto fino ad oggi da lì è iniziata il mio impegno in A Oico fattivo come quello di Luca De Campora che è stato ed è un motore diciamo inesauribile per la nostra associazione anzi non so dove prenda la pazienza e la volontà per sopportare le nostre sollecitazioni quindi oltre a aver avuto la mia stessa esperienza a punto di vista scientifico e formativo quindi in quell'anno fondamentalmente nasce il logo della nostra associazione e quindi il gennaio successivo del 2000 ufficialmente c'è il primo congresso A Oico organizzato dal compianto professor Pretto a San Giovanni Rodondo in due giornate 14 e 15 ringrazio Luciano Vigliaroli che mi ha quanto meno fatto avere l'immagine e tutti quanti ricordiamo la lettura magistrale del professor Che da Radur proprio sul sorriso della gioconda che pare fosse l'esito in una paralesi di Bell fu una giornata molto molto importante nei miei ricordi c'è la relazione affidata del mio professore Vigliaro sulla diagnosi della paralesi del facciale e diciamo il professore Lauda Dio che chiedeva un suo aiuto se l'aveva studiato e il suo aiuto portava con sé un libro sulla paralesi del facciale di 600 pagine e io mi preoccupai perché se questo diciamo la preparazione richiesta magari rinuncio è un'altra cosa che ricordo che da allora cominciavano ad esserci computer quindi le portammo con sé le diapositive stampate e il floppy disk nel caso il computer non dovesse funzionare Sì Luciano prego Luciano era lì quindi ci può dare una testimonianza diretta come no nella premessa tu hai detto che quando il professor Villari ti disse di relazionare tu eri sprofondato io ricordo a Cosenza appena fu deciso per San Giovanni Rotondo ricordo il dottor Pretto che gode di buona salute tranquillo e ci disse a Vigliaroli a Medis bene da domani iniziate a lavorare per organizzare quindi immagina eravamo decisamente scettici San Giovanni Rotondo però avemmo un discreto anzi un successo posso dire due flash il primo io ho vissuto tutti i giorni ero vicino al professor Kadur libanese una persona squisita un vulcano potrei dire un campano un napoletano mancato e l'altro ricordo che ho ebbe un'urgenza il dottor Pretto Vigliaroli ebbe un problema con la macchina e allora il dottor Pretto mi chiama e mi dice senti trattieni un po' tutti gli ospiti per la colazione un'oretta quindi io pischelletto là e devo ringraziare la signorilità del mio maestro il professor De Cambora ricordo il professor Serafini e abbiamo passato un'ora piacevolissima ero imbarazzatissimo però mi misero a mio agio proprio grazie grazie Luciano chiedo scusa per la gaff ma penso che almeno ho portato fortuna il professor Eretto perché di solito funziona così 2000 l'anno il decennio breve nasce Google c'è la bolla speculativa sui titoli informatici c'è le elezioni di Bush l'epidemia di mucca pazza questi sono gli eventi del 2000 che precedono il 2001 quando quindi c'è il secondo congresso a OICO gennaio 2001 sull'epoca così improvvise organizzato dal dottor Fulvio Carluccio in quel di Avezzano ricordo l'accoglienza e ricordo anche questa cittadina su un altipiano con un freddo particolare tirava un vento molto molto freddo e non so magari se qualcuno vuole dare qualcuno dei suoi ricordi perché io sinceramente questa è la cosa che mi è rimasta impressa un grosso freddo un grosso vento è l'argomento importantissimo perché di poco si è improvvisa era un argomento di grosso rilievo sul quale si cominciò a fare chiarezza quindi sicuramente l'argomento fu molto molto azzeccato c'è il dottor Alicante mi tocca come abruzzese perché questa fu la seconda volta appunto che si realizzò il convegno in Abruzzo e fu ad Avezzano dove c'era Fulvio Carluccio che è abruzzese non è perché Fulvio è un pugliese che proveniva da Roma dalla scuola del professor Marullo è stato primario sino a un paio d'anni fa ad Avezzano e Avezzano fa parte della stessa asa di Sulmona quindi è stato primario anche nella mia città anche se stava ad Avezzano e non ha mai risieduto ad Avezzano per vent'anni vent'anni forse ma comunque una ventina d'anni ha fatto il pendolare Roma-Avezzano tutti i giorni e adesso in pensione da un paio d'anni ci sentiamo di tanto in tanto e sta benissimo fa il pensionato Bene grazie Meglio chiarire che vivo non perché dai Quell'anno fu l'anno del G8 di Genova dei No Global beh delle torri gemelle purtroppo ricordiamo tutti il tragico avvenimento che fu poi al quale ci fu la risposta con la guerra in Afghanistan nacque l'iPod che poi fu il precursore dell'iPhone e ci fu il primo italiano nello spazio in un equipaggio internazionale e nel 2002 andiamo in un'isola maggiore in Sicilia dove il dottor Giuseppe Amico organizza a Caltanissetta il congresso Oico sulle tonsilliti ricordo il gagliardetto che ancora ho e che ricordo che mi ricordo il congresso che ho nel mio studio la pubblicazione la monografia proprio su quell'argomento e queste sono le foto che gentilmente il dottor Amico ci ha inviato fu una bellissima giornata mi ricordo che dormivamo in quel centro residenziale a Caltanissetta e ricordo anche che ci accolse all'aeroporto di Palermo Francesco Caruso non so se ricordate che ci portò a pranzo a Bagheria tra le ville di Bagheria e poi di lì poi andammo a Caltanissetta fu sicuramente un paio di giorni veramente di grossa amicizia e di condivisione non so se qualcuno vuole dare un suo ricordo personale se no andiamo avanti a gennaio nasce l'Euro 2002 e qui c'è Elio nel 2003 il congresso della OICO si svolse in Umbria a Gubbio avendo come tema la classificazione delle malattie non oncologiche di competenza RL vedremo che poi aprirà un filone che durerà qualche anno e qui c'è Elio quindi magari se ci vuole dare il suo ricordo è sicuramente più efficace del mio lì il microfono il dottore Zapor allora ero giovane sì forse anche qualche chilo meno no tra l'altro ero recente di trasferimento ero prima a Reggio Calabria come primario mi ero trasferito a la città di Castello e Gubbio e allora chiedi chiesi al professor De Campora ma io ho cambiato sede va bene anche se la facci in Umbria sì sì non ti preoccupare va bene e poi per quanto riguarda la la tematica ho detto proviamo a così a fare un qualcosa di originale vediamo d'altronde in molti convegni molto spesso vengono ripetute sempre le stesse o alcune cose insomma ho detto proviamo a parlare delle classificazioni in modo da parlare in un linguaggio comune vediamo se se questo può attirare l'attenzione in effetti devo dire che ci fu un bel successo di presenza e penso che la tematica piacque eravamo in quel di Gubbio in un bel convento del Quattrocento ristrutturato a perfezione io ricordo veramente ho un gran bel ricordo e devo ringraziare l'occasione cioè molto spesso ognuno di noi ha necessità di una spinta per organizzare un qualcosa e per me quella fu devo dire una bella occasione per organizzare un congresso perché se no certe volte nella pigrizia ciascuno di noi potrebbe non organizzare allora ringrazio ancora il professor De Campora per questa occasione poi sì in effetti su questo tema si inserirono alcune tematiche negli annunci successivi ma ecco devo dire che rimasi molto gratificato da quella situazione lì ecco non so se il professor De Campora stesso vuol dire qualcosa il fatto di identificare Carmelo Zappone come presidente dell'OICO non fu un atto di generosità perché di generosa in tutto questo non c'è niente perché l'OICO viene prima delle persone ma fu soltanto il riconoscimento delle qualità di quella persona per il lavoro che aveva svolto in precedenza ti eri guadagnato la stima e l'apprezzamento di tutti per quello che avevi fatto a Reggio Calabria aggiunge questo che c'era un ulteriore motivo per scegliere te ed era che per la prima volta si andava in Umbria non c'è mai stato prima un congresso in Umbria non c'è stato uno dopo in Umbria e c'era in questo anche l'ospicio in parte dell'uso di coinvolgere la Gens Umbra un po' più di quanto non avesse fatto fino a quel momento nella vita della nostra associazione però non c'è dubbio che quel convegno fu un successo sia per gli aspetti logistici ma anche per l'originalità del tema che tu scegliesti di portare all'attenzione di tutti noi grazie 2003 anche l'anno della SARS che poi purtroppo sappiamo che è antenato o parente di quella della SARS diciamo del virus SARS-CoV-2 che stiamo purtroppo amaramente sperimentando noi nel 2004 gennaio 2004 la presidenza tra virgolette torna Alfredo Procaccini perché prima non si parlava di AOICO quindi comunque la prima presidenza AOICO e come vedete lui si è sferito a Martina Franca e continua il filone iniziato da Elio perché si parlerà di strategie diagnostiche nelle patologie non oncologiche di interesse ORL i ricordi che leggete che leggete qui chiaramente me li ha ancora una volta trasmessi Marco non so se vuole raccontarci qualcosa o perché questa è una descrizione di Marco anche la location che fu molto molto particolare Rieti è una delle città che conosco meglio perché mia moglie è di Rieti quindi tristemente famosa insomma è una cittadina che è nascosta e come è nascosta tra le montagne nasconde anche delle bellezze sicuramente molto apprezzabili soprattutto da un punto di vista paesaggistico e naturalistico Progaccini Alfredo si era trasferito lì proprio da Martina Franca ed è rimasto lì per molti anni e ancora oggi per la città si vedono i suoi nasi diciamo così le molte signore ormai diventate diciamo signore mature che da ragazze avevano avuto appunto avevano goduto dei delle attenzioni di Alfredo da un punto di vista chirurgico Rieti fu quella di Rieti fu un'occasione molto molto interessante anche perché ci fu una parte sicuramente pregevole dedicata alla medicina legale e a cui intervenne il professor Coppi il famoso professor Coppi che fece proprio una relazione estremamente interessante sulla responsabilità professionale una delle tante che abbiamo poi fatto nei nostri convegni per cui ricordiamo anche Rieti con grande piacere grazie Marco 2004 nasce Facebook c'è l'attentato dei treni in Spagna l'UE si allarga Bush viene eletto per la seconda volta presente negli Stati Uniti c'è lo tsunami diciamo nei paesi asiatici nel sud est asiatico e Michael Jackson comincia a avere i primi problemi in questo caso viene accusato di pedofilia e come avevo anticipato il filone continua nel 2005 quando la presidenza viene affidata al dottor Nicola Manzi quindi la OICO viene in Campania a Napoli strategie terapeutiche delle patologie non oncologiche interesse RL e la cosa bella che ce lo racconterà lui perché il dottore Manzi è qui lui ebbe anche il compito e il merito di pubblicare le monografie che poi sono state utili alla consultazione di tutti quanti noi quindi fu la prima monografia a OICO di una certa importanza che abbiamo consultato per tantissimi anni e quindi chiedo al dottore Manzi di diciamo raccontarci di quell'anno dunque in questo congresso lo ricordo con due momenti molto emozionanti uno che mi fu assegnata la pubblicazione di questa monografia che era la prima che faceva la OICO sulla scorta di quella che faceva la OI quindi per me fu molto imbarazzante anche perché io ero giovane primario all'epoca e mi ponevo il problema di come finanziare la pubblicazione di questa monografia quindi alla fine ci riusci e sono rimasto molto contento ma soprattutto il momento emozionante è stato quello dell'investitura avete parlato tanto bene del professore De Campora ma il professore De Campora al momento dell'investitura mi trovavo a Telesi in un congresso di Peppino Villari mi chiuso in una stanza e mi fece un interrogatorio io venivo dall'università dal professore Motta in quel momento lo scontro universitario ospedaliero era molto forte per cui il professore De Campora mi fece un interrogatorio di terzo grado per dirmi guarda tu fai questo congresso ma non ti permettere di portare gli universitari al congresso a Napoli e devo dire che forse il mio congresso di Napoli è stato il congresso a OICO più puro dal punto di vista ospedaliero cioè non c'era un universitario quindi ricordo questo come un grande piacere ma poi i tempi sono cambiati i tempi sono cambiati ai congressi a OICO successivi no dico i tempi sono cambiati poi i successivi congressi a OICO sono stati frequentati molto da più universitari che ospedalieri ma il mio fu ospedaliero puro proprio grazie in quell'anno muore Papa Giovanni Paolo II la Merkel che si è fatta un bel po' di anni perché è arrivata fino ad oggi era nominata cancelliera ci fu l'attentato alle metropolitane di Londra e Catrina devastava il sud dell'America dell'America degli USA nel 2006 Marco Manzini organizza il suo congresso sulle cefalee rinogene a Campobasso e anche questa professore De Campora fu una novità perché il Molise una piccolissima regione ebbe modo di poter avere il congresso dell'Aoico ricordo questo argomento perché è stato sempre mio interesse la chirurgia nasale ma anche perché si faceva in una città che era 20 minuti dal mio paese di origine perché è a confine col Moise e anche la regione del Presidente Eonna e quindi questa cosa la ricordo piacevolmente non so se qualcuno ha altri ricordi ma penso che possiamo andare avanti 2006 Napolitano diventa Presidente Saddam Hussein giustiziato l'Italia vince i mondiali e ancora una volta la popolazione asiatica ci regala un virus in questo caso l'Aviaria nel 2007 si andò ad Alghero confesso che questo fu un congresso al quale non partecipai non andai il Dottor Fois organizza questo congresso con il tema delle strategie mediche chirurgiche nelle patologie non oncologiche interesse RL quindi il filone continuo e come e penso per motivi climatici e la scelta fu fatta a maggio magari voi avete ricordi più netti di quella di quella giornata di quell'anno c'è il Professore Laudaddio Ricordo molto bene quel congresso organizzato in una maniera fantastica da Vincenzo Fois che nell'occasione veramente dimostrò tutte le sue capacità organizzative e anche di preparazione perché fu un congresso estremamente interessante vi parteciparono dei grandissimi chirurgi mi ricordo Italo Serafini il Professor De Campora Radici Camaioni Presutti c'erano tutti i più grandi esperti delle materie più complesse e più difficili e comunque fu un grande successo perché fu la prima volta credo che si riuscì a radunare anche tutti gli otorini e l'aringoiatri sardi che in genere sono molto resti a uscire dalla Sardegna vengono fuori con molta difficoltà ma in quell'occasione si presentarono tutti e parteciparono attivamente grazie Professor nel 2007 come abbiamo anticipato dall'esperienza dell'iPhone nasce l'iPhone cherebbe rivoluzionato la comunicazione e bene nel 2008 Marco Radici diventa presidente della OICO e con un argomento importante da allora come adesso che era chirurgia endoscopica naso-sinusale e qui Marco ti tocca raccontare perché se non adesso prego il dottore Radici il microfono ma io il ricordo diciamo più vivo che ho di quel congresso è che dopo mezz'ora di congresso avevamo già due ore di ritardo perché era cominciato sai il parcheggio l'isola Tiberina si raggiunge male già le otto e mezzo di mattina per Roma sono le nove e mezzo noi abbiamo questo piccolo questo difetto quindi insomma l'angoscia di dover finire in tempo questo programma che tra l'altro avevo reso particolarmente denso per accontentare un po' tanti diciamo romani e non solo romani che era bene diciamo così invitare io nel frattempo ero primario da pochissimo tempo quindi i miei rapporti politici diciamo con la romanità erano diciamo a tutti da creare tutti da tessere quindi insomma fece un programma densissimo con un ritardo colossale però poi alla fine ce l'abbiamo fatta insomma e la sera siamo andati tutti a Castel Sant'Angelo che finalmente ha riappacificato gli animi ci ha fatto distendere perché tra l'altro nonostante fosse gennaio fu una serata piuttosto mite con una bella veramente una bella serata con quel panorama che soltanto Roma e pochi altri posti al mondo riescono ad offrire a chi a chi viene insomma ecco quindi un ricordo veramente bello che rimane impresso nella mia mente nella mia carriera grazie grazie a te nel 2008 Obama primo presidente afroamericano in America nel 2009 il congresso ci fu ad Ancona sotto la presidenza di Napolitano che propose il tema affronta il tema delle patologie flogistiche dell'orecchio medio e qui c'è l'esibizione in chitarra elettrica dei Pink Floyd che diciamo emerge nei ricordi nel 2009 purtroppo ci fu il terremoto tremendo terremoto dell'Aquila e nel 2010 decidiamo di creare un sito a oico.it qui c'è proprio la data di registrazione ufficiale e vedete che il presidente allora era Gennaro Larotonda mi fu affidato questo sito web allora c'era il presidente e noi facemmo modo di farlo diventare responsabile legale Gennaro non lo sa ma è ancora responsabile legale di quel sito perché l'ho scoperto adesso facendo le slide che non è stata mai cambiata comunque fu quella anche l'occasione in cui dopo Luca che già era entrato da prima se non ricordo male entrare nel direttivo dell'Aoico come responsabile della comunicazione multimediale e quel sito comunque ancora lo utilizziamo chiaramente per la comunicazione per la comunicazione interna e come vetrina verso l'esterno e quello fu l'anno anche del congresso che Gennaro Larotonda organizzò bellissimo congresso che lo organizzò a Matera anche Gennaro doveva essere qui ma per un problema familiare purtroppo non potrà esserci e vi saluto e ci saluta tutti nell'anno 2010 c'era ci fu Wikileaks lo scandalo di Wikileaks e nel 2011 Tagliabue Alberto Tagliabue ad Ostuni alla Bianco Ostuni organizza un bellissimo congresso un argomento molto interessante che era i presidi ottici in ORL ricordo questo villaggio sul mare Ostuni e questa praticamente atmosfera particolare una location veramente molto molto particolare nel 2011 fu beatificato Papa Giovanni Paolo II nel 2012 il congresso ritorna in Campania a Cava dei Tirreni sotto la presenza di Remo Palladino che avrà come tema le attuali indicazioni chirurgiche in ORL nel 2012 faccio un restyling della OICO non per discriminare il mio libro di geografia ma magari i computer erano un po' più performanti io ero diventato un po' più bravino quel logo era si vedeva che era appezzottato diremmo noi in Campania quindi avvalendomi dei potenti mezzi feci un restyling sia della grafica che della scritta ma fondamentalmente il logo è rimasto sempre quello nel 2013 25-26 gennaio fu la volta di Luigi Dottavi che a Roma quindi la OICO ritorna a Roma ci parlerà dell'approccio multidisciplinare nelle neoplasie della testa e del collo nella centralissima via di Ripetta e non so se qualcuno ha dei ricordi io ricordo veramente una location fantastica e un approccio multidisciplinare ad alcune patologie che erano ad alcune questioni ORL che erano molto pregnanti mi piacque molto la multidisciplinarità ricordo una bellissima relazione sullo stato nutrizionale sulla nutrizione del paziente neoplastico fu una cosa veramente molto molto interessante 2014 si rientra si ritorna in Sardegna sotto la presenza di Giorgio Tore che avrà come argomento il congresso avrà come tema le neoplasie benigne e maligne della parotide e anche in questo caso chiedo l'aiuto dei presenti perché io non ricordo molto di quel congresso magari se qualcuno ha dei ricordi ce li può dire se no professore Villari il microfono al professore Villari devo dire la verità del congresso non ricordo molto ma delle scene che fece Giorgio erano eccezionali fece venire come si chiamavano che facevano gli arrosticini ti ricordi? ecco sì il torrone ecco sì il torrone è un bel ricordo anche quello quindi la memoria dei sapori perché no 2015 congresso in Sicilia a Catania organizzato da Nando Raso che affronta l'argomento della patologia otologica in età pediatrica nella bellissima Catania ricordo una partecipazione nutritissima numerosissima nel 2006 2016 scusa il genio 2016 il congresso torna in Campania organizzato sotto la presenza di Giuseppe Panetti che avrà come argomento le complicanze in RL la location bellissima che poi Napoli dà sempre un'emozione fantastica e ricordate la grande performance rocchettara e chitarristica di Giuseppe che più volte ci ha abituato alle sue eccellenti performance tra quelle di Chirurgo nel 2017 ritorniamo a Roma sotto la presenza di Paolo Ruscito il tema sarà l'impatto dell'innovazione tecnologica sulla diagnosi trattamento delle affezioni cervico-facciali e nel 2016 Paolo Ruscito durante la sua presidenza riuscì anche a organizzare una tavola rotonda dell'Aoico in quell'anno dell'Aoico in Sio nel 2018 gennaio 2018 ritorniamo in Sicilia sotto la presenza di Mario Calfano che propose un tema importantissimo rilevante il nervo facciale e dintorni e ricordiamo non solo la qualità delle relazioni anche lì c'è un approccio multidisciplinare ma la bellissima cena a Palermo al Teatro Massimo penso che fu veramente eccellente abbiamo un ricordo non solo della sua ospitalità ma dell'atmosfera della location fantastica oltre che della qualità ripeto delle relazioni scientifiche nel 2019 fu la volta del professore Presutti endoscopiano RL il professore Presutti che sicuramente ci racconterà cosa accadde a me piacque molto la voglia che ebbe nel manifestare l'amore per la sua terra perché organizzare un congresso lì a Città Sant'Angelo non fu facile ma lo fece veramente egregiamente ci fu un clima di amicizia di allegria e a alcuni tratti ricordo anche commovente se lo posso dire ricordo il grosso sentimento di riconoscenza del professore Presutti per il professore Laudaddio e l'affetto che il professore Laudaddio aveva per il suo allievo e poi voglio ricordare ecco qui c'è anche il professore De Campora che diciamo porta i saluti poi lascia la prova al professore Presutti ma voglio ricordare che la OICO il gruppo campano organizzò un pullman una clac molto nutrita per poter partecipare lì quindi noi la trasformammo in una grande bellissima gita quindi unimmo diciamo la parte congressuale con la parte conviviale prego professore Presutti beh grazie io ricordo molto bene quel quel congresso ma il pre il congresso nel senso che io fui da un lato sorpreso quando la OICO e in particolare il professore De Campora che approfitto ancora una volta per ringraziare mi proposero questa cosa perché io sono meridionale ma non ero più universitario e non lavoravo al sud quindi fui sorpreso piacevolmente ma non solo dalla proposta ma anche dall'affetto e dalla come dire dal coinvolgimento che tutti avete avuto nei miei confronti e nei confronti anche della mia regione per cui fu un momento per me importante io che non ero stato presidente mai di niente e neanche dopo lo sono stato e mai lo sarò fu un'occasione importante per come dire mostrare la riconoscenza ai maestri che mi hanno preceduto l'attaccamento alla mia terra che ho sempre conservato e il voler fare un congresso proprio lì dove io sono nato a due passi da casa mia non ricorrendo a palazzi di congressi o a grandi alberghi che c'erano lì vicino non fu facile e mi ricordo anche che fu una discreta partecipazione perché coinvolgemmo molti giovani ci fu una sessione di giovani coinvolgemmo anche le professioni non mediche cioè audiometristi audioprotesisti e logopedisti e veramente nonostante era freddo anche lì riuscimmo a portare un bel po' di persone non ricordo quante ma certamente un bel po' di persone quindi per me fu un'occasione molto bella qui è il teatro di Città Sant'Angelo questa cittadina piccolissima che pochi conoscono in provincia di Pescara dove abbiamo organizzato una cosa su temi organizzativi anche importanti per cui davvero io come dire rinnovo la mia gratitudine all'Aioico a cui mi sento profondamente legato e che è stato come dire un momento anche di crescita mia dal punto di vista organizzativo di vedere le cose in un certo modo e soprattutto di sentire il calore e l'affetto di tutti voi qui presenti e non solo anche di altri che qui non sono presenti quindi posso solo dirvi grazie grazie professore Presutti le posso dire che anche noi le siamo tanto 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 riconoscenti posso prego professore prego Livio l'identificazione del nome Presutti non fu la soluzione di un iter burocratico non voleva essere questo voleva essere invece il superamento di barriere a noi non ci importava se tu eri universitario ospedaliero libero professionista nisseno siciliano americano o quello che ti pare a noi interessava che tu eri una persona per bene a noi interessava che eri un professionista serio a noi interessava che tu eri un maestro che poteva darci molto anche nell'ambito didattico e devo dire che l'esperienza anche successiva ha confermato la bontà di questa nostra società perché la continuità con cui tu hai manifestato il tuo legame con questa società ci ha fatto capire la genuinità della persona perché io ho visto durante questi trent'anni molte persone prendersi il titolo di presidente e poi scomparire non li abbiamo mai più visti invece tu non hai mai smesso di dare il tuo contributo di idee di partecipazione di iniziative che sicuramente hanno comportato un arricchimento per tutti grazie professor nel 2020 c'è il congresso a Lucca sotto la presidenza di Riccardo Piane e qui fu l'anno 2020 AM dove per AM sta per ante presidium c'è l'ultimo anno in cui siamo stati senza mascherina perché magari adesso dovremo cominciare a parlare non più di prima di Cristo e dopo Cristo ma prima del Covid e dopo il Covid e però in questi due anni l'abbiamo detto sotto la presidenza del professore preon in questo biennio diciamo forzato ma felicemente forzato abbiamo fatto l'abbiamo detto i webinar abbiamo parlato oggi nella giornata augurare in quell'anno di permanenza forzata a casa e poi siamo arrivati ad oggi io se posso dire la mia poi lascerò agli altri la conclusione dico che questo non è solo un memorial non è solo un viaggio nei ricordi questo io penso che sia un viaggio lungo il sentiero della crescita personale professionale ma sia un viaggio soprattutto nella crescita dell'amicizia come diceva madre Teresa di Calcutta e io ringrazio tutti per l'attenzione professore Onna giustamente chiude prego grazie no non tanto per chiudere quanto per andare avanti per continuare come Livio che diciamo è cresciuto al confine con la mia terra anch'io sono legatissimo alla mia terra come Livio non ero mai stato presidente di nulla e probabilmente come te non lo sarò più quindi tutte queste cose mi accomunano vi ringrazio ancora una volta solo per questo ho preso la parola perché alcuni di voi oggi pomeriggio non c'erano per avermi dato l'orgoglio di appartenere a questa squadra veramente l'orgoglio l'orgoglio di credere nei valori che tutti avete ricordato la forza di portare avanti le idee che continuano ad essere tutte aperte i temi per i quali l'associazione è nata continuano vivi tutti i giorni io mi ripropongo e faccio diciamo un punto di forza della mia carriera di continuare di continuare a vivere nella OICO di continuare ad alimentare per quanto ne avrò possibilità e potrò portare la mia esperienza alimentare tutto quello che è stato fatto Mimmo sicuramente continuerà nel proporci le tematiche degli appuntamenti prossimi perché i webinar andranno avanti ne approfitto per per dirvi che di fatto mi sento un privilegiato perché io ho preso dalla OICO ho preso tanto qualcuno di voi ricorderà e questo è il momento forse per dirlo io non l'ho mai detto non l'avrei mai detto qualcuno di voi ricorderà quante difficoltà ho avuto io per entrare nel mondo degli otorino ragazzi il mondo degli otorino è terribile per quanto mi riguarda non ridere tu non ridere tu ho avuto tante difficoltà perché venivo da un background diverso settorializzato su una patologia sconosciuto al mondo degli otorino che tutti frequentavano quindi io se posso dire al professore De Campora che ringrazierò sempre finché ne avrò memoria io sono la OICO della OICO tutto sommato perché nasco anomalo nasco così e poi mi ritrovo qui stasera per me stasera è un grande premio che tutti voi mi avete dato veramente è un grande premio non sarei mai stato capace da solo di arrivarci non avrei mai avuto la forza di organizzare un congresso se non ci fossero stati Mimmo Luca Marco tutti quegli altri che non vedo tutto il comitato scientifico la forza di Livio nel 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 quando ci spinge a coltivare i ragazzi lui ha ha ragione perché Livio ha il polso della nostra società lui vive con i ragazzi più di noi e quindi ha ragione di capire il futuro dove sta il futuro sta là dove dice lui e io ci credo molto in questo bene continuo a ringraziarvi tutto tutti per quello che mi avete dato saranno giorni intensissimi coltiviamo ancora il nostro interesse per i pazienti e sono sicurissimo che andremo avanti con grande entusiasmo con grande forza grazie vi voglio vi voglio sorprendere perché devo dire che questa bella carrellata che ci ha dato Mimmo che sono trent'anni della nostra storia ha riattivato la memoria quel poco che rimane della memoria che ha determinato comparire di una nostalgia di una nostalgia se per cortesia tacete un attimo solo giuro che smetto subito nostalgia per dei giganti dello Torino che purtroppo non ci sono più ma che hanno caratterizzato una parte importante della nostra vita e sono Carlo Calearo Italo De Vincentis Giovanni Motta Antonio Antonelli Giampiero Teatini veramente sono persone che mi mancano molto e poi aspetta aspetta e poi accanto a questo il ricordo per alcuni questi erano miei ma io non potevo dire di essere amico di Giovanni Motta perché Giovanni Motta era lì e io ero lì io non potevo essere amico di Italo De Vincenti perché c'era un gap generazionale che non avrei mai potuto colmare avevo invece il privilegio dell'amicizia di alcuni grandi maestri e uno di questi era Italo Serafini il quale Italo Serafini ha rappresentato parte della mia famiglia tante che ancora oggi continuiamo ad avere rapporti con la Franca e comunque volevo dire che l'altra considerazione è che valutando questa carrellata di presidenze ho notato che c'è un elemento che accomuna quasi tutti i presidenti ed è la signorilità è la mitezza se vedete sono tutti i presidenti che si io non ho scelto mai nessuno assolutamente no anche perché se avessi dovuto scegliere io tu non avresti mai fatto parte di questa associazione che sei te faccio un impeachment grazie 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 grazie